Cari Pierluigi, eccellenze, signori e signori, amici e colleghi, è per me motivo di profonda soddisfazione partecipare questa mattina all'apertura del convegno Territori Intelligenti e Opportunità di Investimento sul Futuro, organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Felicitazioni per questa giornata. Il tema di oggi è particolarmente rilevante per chi come noi della FAO lavora per promuovere un sviluppo economico sostenibile, eco e inclusivo. L'innovazione sociale, ambientale, finanziaria e tecnologica può funzionare se integrata e compatibile con la gestione sostenibile delle risorse naturali e con il benessere della società umana. Questo è anche uno dei temi al cuore del processo in corso in questi mesi a New York sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come sappiamo, i futuri obiettivi di sviluppo e sostenibilità dovranno comprendere una dimensione economica, ambientale e sociale ed essere applicabili a livello globale e quindi riunire gli interessi comuni dei Paesi industrializzati, emergenti e in via di sviluppo. La FAO, insieme a altre agenzie ONU basate a Roma, è impegnata a sostenere gli stati membri dell'ONU per arrivare ad una agenda per lo sviluppo post-2015 che sia concretamente universale, equa e che porti ad un cambiamento e ad un futuro di prosperità e dignità per tutti, con un diritto a un'alimentazione adeguata e a una migliore nutrizione. E li raccordo la seconda conferenza mondiale della nutrizione del novembre prossimo qui alla FAO. In particolare, i nuovi obiettivi dovranno mirare a un mondo in cui nessuno debba più soffrire la fame cronica e la malnutrizione. Perché sappiamo che non ci può essere sviluppo sostenibile se non eliminiamo la fame dal mondo e quindi crediamo che incorporare questo principio nell'agenda post-2015 garantirà risultati più concreti nella lotta alla fame e alla insecurezza alimentare. In questo processo, la FAO punta a sottolineare il grande potenziale delle risorse naturali per lo sviluppo e che la loro gestione sostenibile, in particolare di quello forestale e di quello montano, è fondamentale non solo per proteggere il pianeta, ma per promuovere lo sviluppo e sostenere il benessere dell'umanità. Le foreste e le montagne possono essere dei driver importanti di sviluppo economico e sociale, come dimostra il contributo che danno al PIL in quei paesi dove sono state valorizzate. La FAO ha organizzato, insieme con molti Stati membri da cui l'Italia, una serie di eventi sulle montagne e le foreste per aiutare a definire targets e gli indicatori per raggiungere gli obiettivi sostenibili e monitorare il progresso del 2015 a 2030. E nei prossimi mesi continueremo a lavorare mettendo a disposizione la nostra esperienza e conoscenze tecnico-cientifiche per assicurarci che la strada verso 2030 sia un vero cammino di sviluppo universale. Questo incontro è oggi un'occasione per ampliare il dialogo su CIO che possiamo imparare da comunità come quelle montane per muoverci verso un futuro sostenibile. Vivendo in zone spesso in ospitali, poco produttive e esposte a eventi naturali, le comunità montane hanno attraverso i secoli sviluppato grandi capacità di adattamento ai cambiamenti globali, inclusi quelle climatici, sviluppando pratiche tradizionali ancora oggi valide e rimanendo aperte all'innovazione. Per proteggersi dai rischi legati al clima, tradizionalmente il sistema produttivo nelle zone montane è basato sulla diversificazione delle fonti di reddito. Le famiglie si dedicano all'agricoltura e all'allevamento e al tempo stesso sfruttano le risorse delle foreste e hanno attività commerciali, di turismo e artizionali. In generale, l'agricoltura è la principale attività economica e praticata con sistemi che proteggono la agrobiodiversità, contribuiscono alla lotta contro la desertificazione e la degradazione del suolo. Spesso è un'attività bassa emissione di CO2. Anche le foreste, la pesca e l'allevamento contribuiscono all'economia delle comunità di montagna. Il rapporto delle popolazioni montane con il territorio, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'equilibrio tra le conoscenze tradizionali e la capacità di adattamento ai cambiamenti sono tutte caratteristiche che le rendono più resilienti rispetto alle popolazioni che vivono nelle città o in altri ecosistemi. Inoltre, i prodotti di montagna presentano delle caratteristiche quali alta qualità e alto valore, produzione sostenibile, rapporto con il territorio, che possono essere molto interessanti per i mercati, contribuendo a migliorare il reddito delle comunità montane. Il 2014 è l'anno dell'agricoltura familiare, che è il sistema produttivo rilevante nelle zone montane di tutto il mondo ed è un modello che garantisce sostenibilità e equità se è adeguatamente sostenuto da politiche appropriate e da investimenti. In montagna, dunque, le opportunità di sviluppo ci sono e ci sono anche modelli interessanti e potenzialmente rilevanti anche per altri ecosistemi. Dobbiamo ricordare allo stesso tempo che le popolazioni montane sono tra le più vulnerabili del mondo e spesso vivono in estrema povertà. Bisogna quindi mettere in atto alle politiche mirate a migliorare la gestione delle montagne e a garantire accesso ai servizi e risorse, promuovere l'investimento e rafforzare il livello di resilienza delle comunità locali, in modo tale che possono continuare a fornirci non solo acqua, legna, cibo, energie e altre risorse, ma anche trasmetterci modalità economiche e sociali alternative e intelligenti per il nostro futuro. Resta unicamente invitarli al prossimo comitè forestale della FAO che sarà qui alla ultima settimana di giugno e molte grazie per la sua attenzione. Buongiorno a tutti. Se mi permettete prima di dare la parola a Pierluigi Sassi, non per fare pubblicità al mio giornale, ma per dirvi quanto ci siamo dentro a questo tema. Oggi ce ne pubblichiamo una curiosa lettera dell'Associazione dei produttori del cemento di Confindustria che protestano per una pagina che abbiamo fatto, l'ho fatta io la scorsa settimana, sul consumo di suolo e protestano perché usiamo la parola cementificazione, in quanto ritengono che sia offensiva nei loro confronti. Capisco che non si può dire all'oste se il vino è buono, però è sicuramente curiosa, visto che la parola cementificazione la usiamo ormai da decenni come sinonimo di urbanizzazione, sarà un errore. Noi diciamo, vabbè, proveremo a non usarla, però dato che non ci sto per carattere e il direttore con me a pubblicare e basta, l'invito comunque a riflettere è alto, perché se è vero che l'urbanizzazione non è colpa di chi produce il cemento, ma sicuramente per esempio le cave fatte in un certo modo o nei posti sbagliati sono colpa di chi produce il cemento e quindi forse dovrebbero riflettere su questo e non sulle parole e magari riflettere anche, e qui ci metto un po' della mia esperienza professionale, al fatto che in certe regioni italiane molta della produzione del cemento non è molto trasparente, ecco diciamo basterebbe leggere le recentissime dichiarazioni del boss dei casalesi Antonio Iovine, che racconta come il calcestruzzo è tutto in mano alla camorra. Ecco allora, un po' di cattiveria l'abbiamo messa, ma questo per dirvi come il tema ci sia tutto, se i produttori del cemento si sentono offesi per l'utilizzo della parola cementificazione. E questo però cozza evidentemente anche con un modo di essere diverso, qui parleremo molto di montagna, sono appena tornato da un media tour in Trentino e siamo andati a vedere in Val di Nonne una cava sotterranea per la produzione di calcare che si trova a Tassullo in Val di Nonne, perché lì ormai le cave le fanno solo in galleria, ma la cosa interessante è che nel buco poi, nel lunghissimo buco che è rimasto, queste gallerie saranno ordinarie a 300 metri di profondità, adesso verranno messe a conservare le mele di Melinda, non faccio pubblicità perché Melinda non ha bisogno di pubblicità, ma saranno messe le celle frigorifere di Melinda e questo permetterà un risparmio del 60-70% di energia della conservazione delle mele, a tal punto che diventeranno una sorta di brand di Melinda, c'è un importatore inglese che ha chiesto l'esclusiva, le mele conservate in grotta, pensate in grotta, torniamo indietro alle cantine dei nostri antenati e adesso modernità e ancora più modernità a fianco alle mele, qui dentro, proprio dove si scava la materia prima per il cemento, sarà messo un data center, non ci hanno anche detto che è l'azienda, probabilmente molto importante, ma l'accordo è ancora in formazione, un enorme data center perché, voi sapete meglio di me, che al fresco i computer funzionano molto meglio, ecco questo per dirvi che se i produttori di cemento si lamentano per l'uso delle parole, per fortuna ci sono anche alcuni dei loro imprenditori che riescono a coniugare quello che per noi è cemento, anche con innovazione, risparmio di energia, tutela dell'ambiente, fantasia e tutto questo avviene in un paesino di montagna, se vi dicessi Tassullo, probabilmente nessuno di voi può sapere dove si trova, ma si trova nelle nostre montagne, ecco questo, il tema c'è tutto, vi sono fatto un po' di pubblicità, ma non per niente c'è anche il nostro marchietto là sopra. Allora Pierluigi Sassi a introdurre questa giornata. Ecco, allora io vorrei cominciare un brevissimo intervento raccontando di un articolo che abbiamo rilanciato sulla nostra piattaforma informativa del The Guardian che ha inserito il nostro Sebastiano Rendina che cura questa rubrica giornalistica. Il quale articolo raccontava di una conferenza avvenuta a Londra lo scorso 27 maggio, era la conferenza sul capitalismo inclusivo. Allora nella sala in cui questa conferenza a Londra si è realizzata, e la sala era solo una, c'era un terzo della liquidità rappresentato, un terzo della liquidità mondiale. Quindi questo terzo della liquidità mondiale si domandava cosa si dovesse fare per tamponare l'ormai fortissimo rischio di una rivolta sociale di fronte alle sperequazioni che la crisi ha generato sui meccanismi economici, finanziari e quindi anche sulla società civile. In altri termini si cercava di capire quale dovesse essere un capitalismo socialmente più irresponsabile perché si ha paura che questa tensione sulle sperequazioni sociali, economiche e finanziarie possa avere una deriva. Tra le dichiarazioni che sono state fatte mi ha colpito quella di un influente britannico al più sconosciuto, Alan Mendoza, il quale diceva abbiamo ritenuto che tale è il disgusto per il sistema pubblico che ci sia il concreto pericolo di una reazione dei politici, i quali potrebbero anche cercare di porre rimedio alla situazione di un capitalismo legiferante. Un'altra colorita affermazione viene dal direttore di McKinsey, Dominic Burton, il quale dopo aver sentito 400 stakeholder tra capi di Stato e imprese, afferma c'è una crescente preoccupazione perché se le questioni fondamentali non vengono affrontate rischia di saltare il contratto sociale tra il sistema capitalistico e la cittadinanza e questo può danneggiare gravemente i risultati naturalmente finanziari. Al di là però di queste drammatiche note di folclore, il The Guardian e anche il Wall Street Journal hanno commentato come questa conferenza sul capitalismo inclusivo abbia sì riconosciuto l'esistenza di certi problemi ma poi li abbia affrontati solo nella superficie quindi diciamo arrivando a denunciare un problema ma poi dicendo che la cosa va risolta facendo un po' di comunicazione e cercando di rimettere un po' di fiducia verso il capitalismo nella società civile, quindi diciamo pagliativi. Ora questa è la giornata mondiale dell'ambiente che è dedicata ai decisori politici ed economici e quindi diciamo anche se la terra è di tutti noi oggi dovremmo parlare di quello che è il ruolo di chi decide e siccome ci troviamo in una situazione di globalizzazione ancora molto immatura in cui la speculazione, lo sfruttamento delle risorse così diciamo sconsiderato da parte di pochi rischia di mettere a rischio la bellezza e la ricchezza non solo dei molti di questa generazione ma anche delle generazioni future, diventa importante che questi decisori politici ed economici si sentano chiamati a fare la differenza e se vogliamo anche essere un po' enfatici a fare un po' la storia. Il cambiamento è un cambiamento necessario, è un cambiamento possibile ma è anche un cambiamento esaltante perché ha dimostrato in più occasioni, anche se a macchia di leopardo, di essere realizzabile, di essere concreto. Oggi alla FAO portiamo delle proposte quindi di sviluppo sostenibile concrete affermando che dobbiamo ripartire dai territori che sono alla base del nostro modello economico e che condividono al proprio interno la tutela per un ecosistema e quindi come per le montagne partire dalla cellula fondamentale del territorio vuol dire sperimentare modelli di sviluppo sostenibile poi da proporre al mondo e attraverso i quali poi proporsi al mondo applicare in questi territori le migliori innovazioni in campo sociale, economico e anche ambientale e finanziario e trovare il colaggio e l'orgoglio di sapersi parte di un sistema che si deve dialogare con il mondo globale, con l'economia globale ma forte anche di una propria capacità, di una propria intelligenza l'intelligenza che si è saputa dare al proprio territorio. Siamo alla vigilia di una riforma del terzo settore che speriamo tutti che possa restituire dignità alla parola sussidiarietà perché siamo anche convinti che si avrà molta più sostenibilità nella condivisione delle decisioni piuttosto che non nel subire le decisioni dall'alto che spesso sono a tutela di interessi perversi e siamo anche fortemente convinti che il crescere di una coscienza critica, dei movimenti della rete il crescere delle imprese sociali la nascita di nuovi modelli finanziari che oggi racconteremo e di nuove possibilità di partenariato tra pubblico e privato siano la più concreta speranza che abbiamo di cambiamento se conferenze come quelle di Londra vanno in quel modo. Io ho finito, volevo ringraziare intanto la FAO nelle persone di Edoardo Rocas, di Maria De Cristofaro di Thomas Hofer e di Losa Laura Romeo che ci hanno aiutati a realizzare queste celebrazioni e che da anni ormai sono partner di Earth Day Italia nelle celebrazioni dell'Erday vorrei ringraziare questo numeroso pubblico che è un pubblico qualificato e che continueremo a sollecitare con il quale continueremo a dialogare poi sulla rete perché questo non sia un convegno nel quale si parla ma poi non si fa ecco, la rete speriamo dia dei frutti e approfitto anche per ricordare che c'è un'applicazione su tutte le piattaforme mobile che potete scaricare e che si chiama Forum Terra Italia nel quale già adesso tra voi potete dialogare su mobile volevo anche ringraziare i tanti relatori che sono intervenuti in rappresentanza di istituzioni e di organizzazioni molto autorevoli a testimoniare esperienze concrete e rappresentazioni di futuri realmente possibili quindi ringrazio Renato Grimaldi direttore generale del Ministero dell'Ambiente Fabio Refrigeri, assessore all'ambiente della Regione Lazio Mads Edkins della World Bank del progetto Connect for Climate della World Bank Edo Ronchi della Fondazione Sviluppo Sostenibile Marco Frey di Cittadinanza Attiva Davide Dalmaso del Forum della Finanza Sostenibile Federico Mento della Human Foundation che è coinvolta tra l'altro nella Social Investment Task Force del G8 Alessandra Viscovi, direttore generale di Etica SGR Elena Casolari, presidente di Opes Impact Found Vincenzo Linarello, presidente del gruppo cooperativo Goel e Roberta Cafrotti, il nostro direttore scientifico Infine ringrazio i tanti media partner che ci hanno sostenuto che sono visibili nei nostri pannelli e nelle nostre grafiche e che alcuni dei quali hanno anche voluto aiutarci nella moderazione li leggo in ordine di apparizione Tony Mira di Avvenire Stefania De Francesco Dell'Ansa Antonella Divizia della RAI Al termine di questa mattinata che speriamo sia produttiva anche se gli interventi saranno tutti molto brevi faremo un piccolo gesto doneremo alla città di Roma una mostra fotografica bellissima che abbiamo realizzato con gli amici di Shoot for Change insieme a bravissimi fotografi di fama internazionale una mostra che si chiama Cambiamo Clima dove il clima che bisogna cambiare è il clima sociale saranno con noi Stella Marino assessore all'ambiente della città di Roma Paolo Masini assessore alle periferie Gabriella Paolino responsabile del progetto Cultura dei centri culturali per Zetema e Andrea Santoro presidente del municipio di Roma Capitale municipio nono grazie e buon lavoro bene allora cominciamo con gli interventi in programma mi toccano anche due cose tecniche mi dicono i relatori non devono stare troppo vicini al microfono perché se no rimbomba nella sala e se riusciamo a contenerci in dieci minuti di intervento riusciamo magari a recuperare qualche minuto dal abbondante quarto d'ora accademico che ci siamo presi in partenza allora il primo intervento del direttore generale della divisione natura al ministero dell'ambiente Renato Grimaldi non per dargli un suggerimento ma credo che ieri mi inizio annunciando che il consiglio dei ministri sarà presentato finalmente i provvedimenti sul dissesto idrogeologico che sappiamo tutti partono dalla montagna non voglio chiedergli di anticiparci qualcosa però sicuramente è anche un tema di grande attualità purtroppo di grande attualità con ricorrenti problemi che abbiamo avuto dalle Marche alla Sardegna in Veneto eccetera quindi difendere la montagna è anche questo ma io penso che il problema del dissesto in Italia ponga in maniera graffiante il tema del cattivo uso del territorio che viene fatto in maniera univoca e convergente sostanzialmente da tutte le amministrazioni territoriali ed è un tema quindi che ci interroga da vicino e mette in campo la questione dei modelli di sviluppo di qual è il futuro di questo paese da che cosa debba trarre ricchezza oggi il paradosso vuole che molto spesso per affrontare il tema del dissesto si debbano togliere le opere a suo tempo fatte per incanalare il dissesto il tema all'ordine del giorno è la rimessa in discussione degli argini dei fiumi delle cementificazioni degli alvei insomma temi che attestano che molto spesso nelle scelte è prevalza la cultura dell'appalto su quella del servizio ovvero sia non si è puntato sperimentalmente non si è innovato si sono scelte strade tradizionali perché tradizionali erano gli interlocutori magari erano quelli lì che si offendono se parliamo di cementificazione del territorio io rispetto al titolo della nostra tavola rotonda trovo che sia un titolo che apre un interrogativo e cioè dico un po' provocatoriamente non si capisce se è un auspicio o una fotografia dell'esistente penso che per ora sia ancora un auspicio prova nel rapporto complesso per esempio che hanno tutte le città a partire da questa con le campagne circostanti con l'agronomano le polemiche che c'erano state su un brutto piano regolatore di questa città qualche anno fa sono ancora all'attenzione dei mass media della politica eccetera eccetera mi pare che era la previsione di una città in regressione che aumentava di 80 milioni di metri cubi il patrimonio edilizio di questa città il cementificato di questa città devo dire altrettanto che e lo dico anche con una certa accogliendo l'occasione che da questo punto di vista il ministro dell'ambiente ha un merito storico e non parlo di me perché non c'ero il ministro dell'ambiente quando era ministro l'attuale presidente della fondazione sviluppo sostenibile che saluto con piacere beh ha puntato proprio sui luoghi dell'abbandono dello sviluppo voi pensate tutta la grande fatica e costruzione di parchi nazionali che sono quasi tutti a valorizzare un appennino che era stato abbandonato e spopolato è stata una forma di investimento convinta concreta non parolaia che oggi si sposa appieno direi in maniera lungimirante con le esigenze poste da questa crisi che non è ciclica ma è una crisi strutturale del modello e la crisi strutturale del modello non mette in discussione soltanto il cosa e il come produrre ma anche il dove produrre il dove adottare le dinamiche dello sviluppo direi addirittura c'è una ridislocazione con la crisi delle linee geografiche dello sviluppo di questo paese qualcuno più autorevole di me Aldo Bonomi dice le aree protette un tempo erano il margine del modello di sviluppo utile anche a giustificare il modello che c'era ecco quel modello non c'è più ed è in crisi per cause endogene al modello stesso non è che abbiamo vinto una battaglia il modello industriale non credo che qui nessuno pensi che il futuro di questo paese nel meridione d'Italia sia di fare la Fiat a termini merese o quel tipo di modello lì e quindi per paradosso ciò che era margine del modello oggi diventa centro e vocazione del nuovo modello del paese e questa è la ridislocazione geografica delle filiere dello sviluppo e quindi le montagne e le campagne che erano state un po' relegate nell'abbandono nel dimenticatoio anche nell'immaginario tornano oggi a essere un pezzo strategico e fondamentale non soltanto per affrontare i fattori di crisi che il nostro moderatore ci ricordava ma proprio come modello di sviluppo di questo paese credo quindi che l'Italia possa vincere questa sfida che ha di fronte a una crisi molto consistente visto che siamo in una sede che assume dei corni della sostenibilità la sostenibilità ambientale ma anche quella sociale ecco credo che l'Italia possa vincere la sfida della crisi se fa l'Italia e cioè se investe sui prodotti di cui abbonda siamo a poche settimane dal semestre europeo dall'avvio della presidenza e qualche giorno fa il 24 maggio è stata la giornata europea dei parchi voi pensate che l'Italia il settore delle aree protette è uno dei pochi in cui lo spread è al nostro favore ma questo non lo sa nessuno lo spread è favoreo dell'Italia noi siamo un riferimento per gli altri paesi europei dal punto di vista della conservazione e tutela di risorse uniche a livello europeo non vi do i numeri se no vi addormento però insomma in un trentesimo del territorio europeo noi abbiamo il 30% delle risorse della fauna e della flora dell'Europa questa è la proporzione sintetica senza cadere nell'elenco delle specie e abbiamo alcune politiche di tutela che stanno dando risultati importanti ve ne cito uno per tutte è tornata la foca monaca legati vuol dire è stato fatto un lavoro con i pescatori con la depurazione una serie di iniziative concrete la cito come fattore simbolico molte altre specie bersaglie oggi sono in una fase sia pure con discontinuità di crescita e oltre ad avere 50 aree protette nazionali fra terrestre e marine noi abbiamo un patrimonio straordinario di siti naturalistici dell'UNESCO ecco voi pensate che noi siamo il paese leader dell'UNESCO in Europa in Spagna i tour operator organizzano il giro dei siti UNESCO in Italia nessuno sa che sono vuol dire adottare o assumere come volano di sviluppo una roba anziché un'altra e quindi vuol dire porsi il tema di declinare nuovi linguaggi nuovi orizzonti alla luce delle risorse di cui effettivamente dispone questo questo non vuol dire abbassare le soglie della tutela ma questa roba qui non la dice il relatore del ministero dell'ambiente unio on camere che è il coordinamento delle camere di commercio dice le aree protette sono il santuario del modello di sviluppo non si deve mettere neanche un mattone in un'area protetta perché il modello di sviluppo può valorizzare può servire può crescere grazie a ciò che crea attorno alle aree protette quindi questo voi pensate quanto mette in discussione una serie di banalizzazioni di luoghi comuni su cui siamo cresciuti basti una per tutta io sono più vecchio di molti di voi quando ero piccolo si diceva che questo è un paese che non ha batterie prime è un paese di trasformazione voi pensate che la prima industria turistica per fatturate addette al mondo è l'industria turistica io ho qualche dubbio che non abbiamo materie prime disponendo di un patrimonio straordinario naturalistico unico ripeto che diventa questo è un concetto del mercato Frey lo sa bene diventa un patrimonio irripetibile laddove si innerva con uno straordinario patrimonio storico culturale ecco di tutto questo non vi è traccia nelle scelte sostanziali che si operano e quindi io penso che nella crisi strutturale che viviamo che impone una radicale rivisitazione del modello cui siamo stati abituati la piena valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e culturale può e deve concorrere a pieno titolo alla ricerca e alla ridefinizione delle nuove vocazioni su cui puntare da oggi e per il futuro per il lavoro la qualità di vita e le legittime attese delle giovani generazioni ma tutto questo si riflette anche sul prodotto industriale cioè per paradosso nella crisi che ha vissuto il paese la manifattura italiana ha piuttosto retto nel mercato dell'export indagini di sociologi dicono io non la voglio banalizzare e dirvi in due parole perché un cinese ricco veste italiano mangia italiano evidentemente la nostra manifattura di qualità incarna evoca un potere evocativo delle nostre bellezze del nostro straordinario patrimonio e quindi investire sul nostro straordinario patrimonio vuol dire investire sulla qualità italiana e rendere paradossalmente ancora più competitive quelle manifatture di qualità di cui siamo tuttora ricchi siamo il secondo paese europeo ma di questa roba si stenta a sentirne parlare naturalmente solo nei luoghi delle buone intenzioni mai nelle scelte i ministeri dell'economia o gli assessorati dei bilanci quando si fanno le scelte questa roba qui pensano che siano delle robe che si possono fare quando ci siamo nelle vacche grasse e penso che dal punto di vista delle scelte economiche il tema dei turismi del tempo libero della bellezza delle alimentazioni di qualità possa incarnare un valore strutturale per rispondere alla crisi del paese e quindi torna tutto il tema di cui oggi ci stiamo affrontando e cioè le montagne e le campagne che sono ricche di questi valori su cui puntare concretamente certo se alla crisi si risponde rieditando le vecchie risposte poi c'è la responsabilità politica ovviamente leggevo tempo fa che qualcuno pensa che valorizzare le coste voglia dire fare porti turistici e alberghi lungo le coste pensate che risposta vecchia in un paese dove i porti turistici falliscono dove hanno senso economico soltanto perché consentono di costruire alberghi ristoranti e case a terra ecco questa è la prova concreta non parolaia di quanto c'è bisogno di rinverdire culture e scelte sostanziali ma vedi più anche sul piano del modello affrontare il tema dei turismi non ce la caviamo facendo più alberghi o più villaggi turistici guardate il modello è sotto gli occhi di tutti il mondo croceristico dove è più forte è arrivata la globalizzazione io non so se avete contezza di questi numeri un terzo del personale al mondo un terzo del personale imbarcato è fatto da filippini ma non perché abbiano una cultura marittima perché modicamente il loro ingaggio è vite alloggio allora se noi pensiamo che le giovani generazioni italiane possano lavorare in cambio di vite alloggio credo che dobbiamo operare una scelta più consapevole perché di questo stiamo parlando allora vuol dire sperimentare nuovi modelli che non per forza vuol dire costruire nuovi alberghi o villaggi turistici perché poi ne viene de plano l'esigenza di abbattere i costi lavoro perché quanto è più standardizzato il modello che si offre di ospitalità si pone il tema di chi può farlo meglio a minor costo allora come fare a valorizzare esperienze importanti in Liguria per esempio nel parco delle cinque terre stanno sperimentando da tempo l'ospitalità nelle case dei residenti che vuol dire che chi ospita è anche portatore di sapere di know how di dove si mangia dove si vede il panorama dove si vede il paesaggio cioè fornitore di un'offerta turistica di ben altro lignaggio che il mero servizio in camera e questo tema per esempio potrebbe essere declinato anche in questa città una città straordinariamente ricca di mare pochi sanno che abbiamo uno dei litorali più importanti del Mediterraneo in questa città la cui qualità delle acque è di gran lunga superiore a gran parte dei luoghi della ricettività turistica dell'Adriatico però nell'immaginario collettivo i turisti tedeschi vengono a Roma a vedere i monumenti e poi vanno a Riccione perché non siamo in grado di declinare un'offerta complessa che sappia mettere insieme l'agro romano la fascia costiera e i monumenti di Roma allora vuol dire cambiare la testa anche di chi offre i beni sul mercato ma c'è di più noi pensiamo all'astraordinario patrimonio naturalistico che c'è in questa città che meriterebbe attenzioni e declinazioni diverse patrimonio naturalistico che non vuol dire solo il verde vuol dire il patrimonio di biodiversità straordinaria che c'è in questa città che nel mondo dei turismi è un'acquisizione scontata da anni in Europa in Europa in Germania il turismo del bird watching fa 5 milioni e 400 mila presenze ma questi dati li studiamo pure in Italia nella crisi che c'è stata del turismo in Italia in questi anni c'è soltanto un luogo un settore dove è continuato a crescere il turismo sono dati di associazioni ambientaliste siamo un union camera e col diretti c'è il turismo nelle aree naturalistiche allora probabilmente è un problema di investimenti e di culture e di attenzioni che mette in campo tutti chiudo con un esempio non piacevole qualche tempo fa avevamo da impegnare i fondi strutturali del periodo 2007-2013 come Ministero dell'Ambiente però occasionalmente un gruppo di meridionali e le regioni di convergenza erano tutte meridionali sono tutte regioni metrimoniali pur avendo il nostro pacchetto di progetti voi pensate i nostri stakeholders i nostri clientes noi l'abbiamo buttati abbiamo detto un investimento serio c'era un progetto un programma che era per gli attrattori naturalistici e turistici abbiamo proposto la banda larga in tutte le aree protette del meridione ecco quel progetto ci è stato tirato appresso dalle regioni di convergenza ciascuna con il suo patrimonio di 3-400 progettini la sagra del tartufo il cavallo eccetera eccetera quindi tutto questo per dirvi non per lasciarvi la mano in bocca quanto è complesso il tema che mette in discussione esige una risidazione radicale del nostro modo di pensare dove non è affatto detto che se non investi su infrastrutture di qualità non trai potenzialità di maggior futuro quando vado in Aspromonte al parco per leggere la maschera di Google ci vogliono 5 minuti di orloggio voi pensate quanto quel parco è tagliato fuori dalle dinamiche del turismo internazionale ecco questi sono fatti concreti e penso che quindi parlare di montagne e campagne ha senso non in chiave evocativa e nostalgica ma ha senso soltanto se comporta investimenti e scelte di campo grazie 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 il direttore cerchiamo di accelerare un attimo allora il prossimo intervento è dell'assessore Fabio Refrigeri assessore infrastrutture politica abitativa ambiente regione Lazio già queste competenze assieme dicono che ci azzecca le infrastrutture con l'ambiente è una bella sfida credo che non sia l'unico in Italia però sicuramente se penso anche a quello che è stato detto dal direttore generale non è facile mettere insieme queste competenze soprattutto di questi tempi non solo di crisi generale ma soprattutto molto di crisi delle amministrazioni locali e delle regioni grazie buongiorno in realtà invece il tentativo è esattamente l'opposto è proprio quello di ubbidire un diverso modello di sviluppo apparentemente queste tele che sono per anni hanno rappresentato quasi delle contrapposizioni in realtà hanno l'unico elemento perfettamente tangibile che è quello del territorio noi abbiamo parlato del territorio vissuto anche come elemento di tenuta e coesione sociale come luogo dove aumentare anche la nostra qualità del benvivere del benessere dove luogo dove produrre e dove conservare beni primari e dove produrre attraverso un'agricoltura elementi che rafforzano identità che diano una risposta che garantiscono quindi anche una prospettiva economica ma questo lo fai se metti insieme quello che fai sul territorio non ci può essere atteggiamenti distonici non puoi pensare che un'infrastruttura non abbia dentro di sé le fondamenta di un modello di sviluppo e anche di una tenuta ambientale e contrapporlo a un altro tema come l'ambiente o come tu tenti di fare le politiche dell'abitare in una città tenti di fare rigenerazione urbana tenti di scrivere come tu vuoi la città io credo che sia sbagliato invece metterle insieme ci fa capire che con un atteggiamento olistico dove tu le guardi tutte insieme puoi tentare di portare dentro un modello di sviluppo diverso e lo dico perché per certi aspetti io credo che questo sia possibile credo che sia possibile se noi in quei territori in quelle aree interne di cui in realtà io provengo perché la mia vita io sono nato in un'area interna e ho vissuto in un'area interna che si era portata in una città in una regione come il Lazio e quindi diciamo che di questi passaggi li ho vissuti anche sulla mia pelle sulle mie narrazioni cioè quando tu ti conformi un'idea di come puoi tentare di amministrare un territorio e allora tu capisci che i modelli di sviluppo che abbiamo usato in questi anni non sono fallimentari perché al di là dell'intuizione giusta metto insieme in un paese come l'Italia turismo cultura agricoltura ben mangiare gastronomia funziona perché non funziona non funziona per alcuni motivi uno se noi non difendiamo lì coloro che sono i portatori di quella cultura apparentemente ovvia per quei luoghi ma sconosciuta al resto abbiamo perso la tipicizzazione di un prodotto di come si realizza quel prodotto di come lo si costruisce arando un terreno in un modo o nell'altro conservando sementi in un modo o nell'altro che è ombreggiato in un modo o nell'altro o che viene in qualche maniera irrigato con acque che sono mantenute e captate diversamente lì c'è la diversità se noi non capiamo che quella diversità è l'elemento che ti attrae che ti dà attrazione allora non abbiamo capito il modello di sviluppo che dobbiamo mettere in campo e questo non è solo mera conservazione la difesa di un'identità della produzione del territorio e della storia che sta dentro quel territorio che è la vera ricchezza che ha questo straordinario paese che ce la può fare ma se capisce che quelle non sono solo aree marginali di un modello di sviluppo che dobbiamo conservare e vive Dio insomma ci sia riusciti ma che in qualche maniera possono rappresentare la spina dorsale di un forte elemento attrattivo e anche di economia e anche di attrazione per coloro che vogliono fare investire sul nostro paese questo lo si capisce se noi differenziamo se noi difendiamo la qualità di quei prodotti se noi siamo anche capaci attraverso norme semplici sull'etichettatura di dire che quello è un prodotto diverso da un altro di non portare un'omologazione di mercato su questo e di far capire che quella lavorazione più faticosa più complicata dentro di sé ha anche il costo di un pezzo di storia che in realtà è estremamente moderna è estremamente innovativa perché questo modello non è conservativo lo dobbiamo far vivere con un elemento di straordinaria innovazione rivolgendoci sì alla possibilità di avere banda larga ultra larga le infrastrutture del futuro probabilmente sono meno impattanti di quelle che abbiamo conosciuto e dare competitività a quei servizi conservare quelle persone in quei territori la grande partita si gioca sulle aree interne come Regione Lazio abbiamo già presentato una proposta per quattro aree interne nel Lazio perché noi capiamo che lì attraverso un po' di risorse e idee perché senza di quelle risorse non contano noi pensiamo di poter cambiare il corso di dare l'esempio su come propuovere un elemento di sviluppo diverso e lo vogliamo fare e ne siamo convinti di questo non solo indirizzando quelle che sono diciamo le risorse dei fondi strutturali europei io tra un po' sono afflusione a raccontarlo lo abbiamo detto ieri a Viterbo e qualche giorno fa in provincia di Rieti da vivere come un'opportunità diversa come un'opportunità di traino addirittura non sono risorse che diamo a un'area che deve recuperare qualcosa ma lo diamo a un'area su cui vogliamo investire perché lì pagare dei servizi la differenza dei costi di un servizio mantenere una scuola aperta mantiene una comunità viva quella comunità viva fa agricoltura protegge le sue fonti lavora i terreni in un modo che magari anche il dissesto ideologico con pochi soldi fatti a monte a valle non accade quello che è successo negli ultimi anni siamo in una regione che ha vissuto due alluvioni con staripamenti del Teveni eventi che non c'erano dal 1956 una roba che non si è mai vista e nessuno si chiede se per esempio quegli elementi di conservazione di quei campi nella parte montana qualcuno li va ancora a curare qualcuno fa le arature come le conosceva qualcuno porta il pascolo come si usava non se lo sta chiedendo nessuno la risposta è che purtroppo di questi modelli ne parliamo li evochiamo ci aiutano le pubblicità a capire quando qualcosa è più buono ma non li difendiamo sul serio noi con la regione Lazio ci abbiamo provato qualcuni esempi le terre pubbliche le stiamo restituendo a chi vuole fa domanda ai giovani le nostre terre pubbliche di proprietà della regione Lazio sono a disposizione a bando e le abbiamo messe per essere fruite su questi scopi sono poche è chiaro ma è un esempio che fa capire dove vogliamo mettere l'attenzione dove vogliamo mettere il risorso l'abbiamo detto con le aree interne dove vogliamo costruire anche asset più importanti di modernità all'interno di quegli elementi conservandone la tipicità ambientale culturale e dell'agricoltura facendone sì che siano elementi di straordinaria modernità nella conservazione di quello che è un messaggio culturale che riteniamo al centro delle politiche che stiamo tentando di mettere in campo e quando abbiamo parlato di costruzione mi rifaccio alla battuta iniziale dice la cementificazione noi abbiamo avuto il coraggio di fare una delibera sull'edilizia residenziale pubblica noi abbiamo affermato due concetti molto semplici non si fa un metro in più di quello che c'è o acquisti l'invenduto o fai rigenerazione urbana nel patrimonio pubblico e lo fai facendo efficientamento energetico lo fai mettendo dentro nuove tecnologie lo fai mettendo dentro modernità restituendo quei luoghi che hanno una storia all'abitare facendo città e l'abbiamo scritto abbiamo fatto due punti A e B molto semplici su questo abbiamo fatto gli atti su cui vogliamo misurarci su questo mi piaceva raccontarvelo in questa mattinata per far capire anche come su questo sul dissesto ideologico dove stiamo componendo insieme un progetto anche di struttura che mette insieme la parte geologica la parte dell'approccio al territorio delle infrastrutture la parte dei consorsi di bonifica abbiamo fatto una legge sull'acqua che insomma stiamo discutendo come rendere in qualche maniera congruo anche rispetto ai dettami costituzionali però abbiamo dato segnali importanti su questo tema perché non ci sfugge anche in questa regione che la tenuta sociale rispetto anche è intimamente legata a alcuni temi del territorio e all'aspetto evocativo che ha l'aspetto ambientale nella nostra storia l'idea che l'ambiente dove vivi si possa conservare un elemento di sicurezza che vale più di qualsiasi altro PIL e noi ci rendiamo conto che l'abbiamo intaccato in questi anni quindi la missione è anche questa restituire credibilità a questi percorsi restituirla attraverso un progetto che sia leggibile che sia nei fatti e che al di là delle tante o poche risorse che puoi metterci è comunque un modello che inverte la rotta rispetto a quelli che sono stati citati che hanno dato quei risultati nefasti che questi giorni constatiamo nella loro drammaticità grazie grazie all'assessore mi viene in mente quando primi anni 80 ho lavorato per un po' per l'ufficio parchi della regione Lazio si chiamava così un tempo Maurillo Cipparone un nome storico dell'ambientalismo italiano che ha la mia età se lo ricorda ancora sul campo per forza i parchi nel Lazio mi ricordo l'immagine era quando si andava là ci portati i lupi i famosi lupi lanciati col paracadute le vipere che scendevano portate da personaggi con degli strani che scafandi ecco questo ma non ero non lo dicevano solo magari alcuni abitanti ovviamente poco informati ma lo dicevano anche alcuni esponenti regionali e assessori quindi il tema adesso è tutt'altro e questo ci è voluto il tempo però in fondo cosa sono 30 anni sono niente però però ne abbiamo anche pagato pesantemente alcune conseguenze credo che l'assessore ricordando le frequenti diciamo così arrabbiature del nostro biondo Tevere io non me le ricordo da bambino sinceramente un campanello d'allarme sicuramente ce lo sta ce lo sta dando e quindi è molto importante questa ulteriore attenzione adesso Italia ci allarghiamo un po' mi sembra alle tematiche e poi tornare a parlare del nostro paese Rosa Laura Romeo del programma Mountain Partnership della FAO grazie buongiorno e benvenuti alla FAO anche da parte mia oggi vi parlerò di montagne quando Pierluigi e gli amici di Her Day ci hanno chiesto di organizzare questo evento qui alla FAO abbiamo accolto con entusiasmo abbiamo accolto con entusiasmo perché le montagne sono decisamente territori intelligenti le popolazioni di montagne durante i secoli negli anni hanno messo a punto delle tecnologie delle metodologie dei modelli che sicuramente sono intelligenti e possono essere interessanti anche per altri ambienti e per altri ecosistemi sappiamo che quest'anno è l'anno dell'agricoltura familiare che è il sistema di produzione prevalente nel mondo e in montagna lo è in maniera accentuata chiaramente in maniera particolare l'agricoltura familiare in montagna si è adattata e ha messo a punto delle tecnologie specifiche sappiamo che ha delle caratteristiche molto interessanti in genere è chiaramente un'agricoltura di piccola scala e si basa su una forte diversificazione delle fonti di reddito che garantisce una resilienza una forza alla piccola economia familiare e infatti vediamo che nella piccola economia familiare di montagna le fonti di reddito in genere provengono non solo dall'agricoltura dalla pastorizia dalla trasformazione del latte dei prodotti lattiero a caseari ma anche dall'artigianato dal turismo a volte dalla pesca e spesso si basano anche su salari di persone della famiglia che lavorano altrove e anche sulle rimesse degli immigrati perché sappiamo che in montagna c'è un forte fenomeno di migrazione purtroppo che spesso spopola questi territori e spesso lascia le donne a gestire la vita delle comunità nelle montagne quindi questa forte diversificazione della produzione si vede in maniera molto chiara anche negli appezzamenti familiari nei pochi metri quadri nell'ettaro che in genere gestiscono non troviamo mai la monocultura che prevale nelle zone di pianura non troviamo mai una meccanizzazione forzata troviamo sempre una forte diversificazione quindi molti prodotti molte varietà che garantiscono una protezione contro il clima che può essere ostile congelate precoci tardive rive di parassiti ma anche tutta una serie di cambiamenti climatici cambiamenti che possono interferire quindi una grande forza proprio nella produzione della piccola della famiglia quindi diciamo che la produzione in montagna il sistema prevalente economico in montagna è un sistema intrinsecamente sostenibile che aiuta quindi a fronteggiare i rischi e le incertezze e al tempo stesso vediamo che la montagna oltre a questa diversificazione è intelligente anche perché ha messo a punto delle tecniche proprio di gestione del territorio vediamo le terrazze sistemi di irrigazione ma anche parlavamo prima dell'Alto Adige per esempio forme di collaborazione nella comunità molto forti abbiamo l'esempio delle magnifiche comunità della Val di Fiemme di altre zone dell'Alto Adige dove da sempre dal 1100 si sono messi a punto dei sistemi di collaborazione molto forti della comunità che consentivano di gestire il territorio in maniera sostenibile dando ad ogni membro ad ogni famiglia della comunità quanto aveva bisogno sfruttando le risorse sempre in maniera sostenibile senza mai eccedere la capacità del territorio al tempo stesso però vediamo che le popolazioni di montagna devono fronteggiare un ambiente ostile sappiamo che c'è quello che viene chiamato un gradiente della povertà cioè più in alto si sale più le popolazioni sono povere più devono scontrarsi con un ambiente complicato con effetti a volte devastanti del cambiamento del clima che produce o accentua disastri naturali al tempo stesso abbiamo detto che c'è questa forte migrazione femminile e questa forte migrazione maschile che lascia le donne a gestire le famiglie i possedimenti i territori e c'è una cronica mancanza di accesso alle risorse spesso non ci sono non c'è accesso al credito accesso all'assicurazione accesso alla formazione e questo è particolarmente grave per le donne che in alcuni paesi non hanno addirittura diritti civili quindi non possono ereditare non possono accedere ai crediti quindi diciamo da una parte abbiamo questa forte potenzialità dei territori italiani questa gestione intelligente questa gestione sostenibile delle risorse naturali al tempo stesso vediamo che si scontrano quotidianamente con problemi e sfide veramente pesanti c'è stato di recente la settimana scorsa un foro globale sulla montagna c'è stata una grande sessione molto importante dedicata al tema dell'agricoltura familiare e in questo contesto alcuni rappresentanti delle comunità andine per esempio hanno detto con forza che loro hanno bisogno della città in montagna cioè se loro loro vogliono continuare a vivere nelle zone montane vogliono poter rimanere ma adesso sono per esempio ci sono moltissimi fenomeni di migrazione per consentire ai figli di accedere all'istruzione quindi famiglie intere che si spostano e vanno ad abitare nelle città contribuendo ad aumentare quella fascia terribile di povertà periurbana fatta di slums e di favelas per poter consentire ai figli di accedere all'istruzione o a cure sanitarie quindi la montagna ha chiaramente bisogno di investimenti per continuare a svilupparsi in maniera intelligente e a contribuire allo sviluppo globale del mondo un punto di entrata che a noi interessa molto e che speriamo di lanciare anche con gli amici di Her Day è il tema dei prodotti tipici che citavamo anche prima i prodotti tipici di montagna sono prodotti di alta qualità hanno intrinsecamente un alto valore e chiaramente sono prodotti in volume ridotti perché non ci sono chiaramente le produzioni della pianura questi prodotti di montagna possono veramente essere un volano di sviluppo pensiamo a quelli più noti come lo zafferano l'olio d'argano il tè il caffè di montagna ma anche prodotti artigianali di grande interesse o per esempio le pashmine eccetera purtroppo molto spesso le comunità montane sono disperse nel territorio quindi non hanno forza per arrivare ai mercati vediamo a volte delle filiere di produzione delle catene di valore incredibilmente lunghe con moltissimi intermediari noi abbiamo visto che per alcuni prodotti addirittura soltanto il 7% rimane o arriva al produttore iniziale questo è chiaramente inaccettabile bisogna lavorare per avere delle catene di produzione che siano più eque che siano più più giuste in tutta la loro fase di evoluzione quindi noi stiamo lavorando con diversi governi nel contesto della mountain partnership con molte società della società civile per promuovere diciamo un accorciamento della catena di valore e per arrivare a definire un brand un'etichetta prodotto di montagna attraverso un processo di autocertificazione un processo che possa garantire ai produttori di montagna alle piccole comunità una parte più equa di reddito di quanto loro producono e speriamo di poter lanciare questa etichetta prodotti di montagna nel prossimo Expo del 2015 sicuramente le popolazioni montane hanno messo a punto tecnologie metodi sistemi intelligenti sicuramente sono molto rapide nell'adattarsi nel cambiare a casa dell'ambiente ostile in cui vivono hanno una capacità di reazione molto rapida quindi loro si adattano con molta facilità ai cambiamenti al tempo stesso hanno bisogno di politica e di investimenti per continuare a svilupparsi soprattutto per continuare ad offrire al mondo i servizi che offrono quasi l'80% dell'acqua che noi utilizziamo viene dalle montagne è chiaro che le montagne e le popolazioni di montagna offrono un servizio fondamentale all'ambiente possono essere un grande volano di sviluppo possono contribuire allo sviluppo del mondo hanno bisogno di attenzione e di investimenti grazie grazie a dottoressa Romeo credo che soprattutto questo riferimento Expo 2015 ci confermi quanto questo evento possa essere davvero una grande occasione per questi territori e come diceva prima il dottor Grimaldi per un settore economico che può essere davvero fondamentale in questo momento di difficoltare la nostra economia ma queste zone marginali portate sul palco scenico mondiale dell'Expo e se mi permette una riflessione questo è l'Expo e non quello che stiamo leggendo e me nella cronaca giudiziaria di questi giorni purtroppo purtroppo ma evidentemente c'è chi soldi li fa in un altro modo e sono poi i soldi nostri restiamo nella riflessione globale con Max Edkins della World Bank Group è anche qui interessante sentire il pensiero di chi navica in altri mondi non solo globali ma anche nei mondi della 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 grande economia grazie grazie thank you FAO thank you Earth Italia thank you to the ministry it's a great opportunity to be here It's a great day to be talking about the environment We definitely have to raise the profile on all our environmental issues So today I'm going to present the Connect for Climate initiative of the World Bank Unfortunately my manager was unable to make it so I am here instead I just left the UN negotiations on climate change to come down So Connect for Climate is a campaign, a coalition and a community That aims to raise awareness on climate change This is a quick overview of my presentation I'll take you through the motivation for the initiative, the values, the strategy Give you some examples of our competitions and our empowerment activities Our events and workshops and then some concluding remarks So we all know the science is clear Climate change is here The world is warming, the IPCC has said it over and over again And we know it's due to the emissions of greenhouse gases from humans We also know that the poor are affected the most Those living on the margins reliant on resources that are increasingly becoming unpredictable Are going to be affected the most In a two degree warmer world the earth will have fundamentally changed The water cycle is being affected The rainfall is not coming when it's supposed to come And when it does come it comes in different patterns The oceans are affected We know that they are acidifying and we know that the sea levels are rising The most recent science is saying that the West Antarctica ice shelf is also melting So really if we do not tackle this issue We will struggle to end poverty And a lot of the development work we have been achieving over the years will be turned back But we also know the solutions are there We know that it's urgent We know that we have to act now We know that it's cost effective Although it might cost a little bit in terms of global GDP to implement the mitigation measures that we need to implement The gains received from co-benefits from reducing the externalities of burning fossil fuels that are not being considered at the moment Will easily outweigh the cost of mitigating climate change We know we have to act on a large scale IPCC tells us that to achieve some of the targets it's projecting We have to treble or quadruple low carbon energy by 2050 Those are large scale investments and they need to happen quite quickly Already we're adapting to the impacts of climate change and we have to continue doing that So Connect4Climate works under this guiding principle of Jim Yong Kim The president of the World Bank Group Which is we will never end poverty if we do not tackle climate change With the World Bank's aim of ending extreme poverty and enhancing shared prosperity Climate change is a fundamental issue that needs to be addressed So Connect4Climate's guiding strategy is really to inspire climate action To promote behavioural and social change across diverse audiences To encourage environmental education which drives that social change And to empower the voices of the youth Who are the future generation and who will be affected most by climate change We and almost 300 partners Act to empower the youth Which in turn act as voices for the 7 billion people out there And by giving them a platform and amplifying their messages A lot of these are also from communities and from the rural areas Their wishes are being pushed onto the private sector Who are innovating to deliver more sustainable products And in parallel their voices are affecting the policy makers Who are putting in Who are implementing the policies that will encourage more sustainable practices And the policy makers also have a feedback loop back onto the private sector But really Connect4Climate stands there to amplify And engage a broader network of climate actors We don't try to replicate what's happening out there already There's a lot of great work I'm thinking of Cittadinanza Ativa I'm thinking of Earth Italia There's fantastic work and we really want to put it out there and amplify it So over the last couple of years we've run a number of campaigns From working with communities in Africa for photo and video competitions To working with the private sector For example the Lego Build the Change initiative Where we brought together 4,000 children to build their sustainable cities And their visions of the future To the advertisement industry Where youth were encouraged to make climate change adverts To the fashion industry And increasingly now also with the cities and regional networks So just to give you an example of our latest campaign The Act for Climate documentary film competition These are some of their stories And if we could play the video That would be fantastic What Action for Climate is doing is sort of challenging filmmakers to speak their voices And to be heard So we can take that education and incorporate it And apply it into our characters, our themes and our films We are all participating in this world together And it's all about our survival of the planet and humanity In your time, the world was divided by great wealth and extreme poverty Overwork and unemployment We were accelerating towards the cliff edge of catastrophic climate change Even in these remote areas The insatiable appetite of capitalism Demands it further ravaging on nature Non si è finito, è finito, ma non si posso prendere. E non si è finito, ragazzi. E non si è finito. E non si è finito, a apri un video. Sì, speriamo che le nostre esforzioni può imparare gli altri e usare come un modello per ottenere l'energia e l'independenza. Dopo tutto, vogliamo lavorare con l'Earth in tutto ciò che abbiamo fatto. L'Earth è stato molto più lungo che abbiamo. L'Earth è stato molto più lungo, ma è stato molto più lungo. Il cambiamento climatico è un'acqua di caldo. Ricordatevi, non fare tutto, ma tutti gli altri farei qualcosa. Andate per il 90 anni e poi cominciamo a provovere un pochino risparmio energetico con le fonti alternative. You must act now in order to transform my new future so that one day someone will write to me, telling me I did something wrong. It is very important to educate our young children to the important aspects of taking care of our environment. Then the whole problem of our planet changed. We've got to get serious. We've got to connect on an emotional level. The young people here today know that they're going to be living in a time that's unrecognizable today. We have to listen to them. We have to listen to the scientists. But we have to connect. So that's a compilation of all the youth and all the amazing stories that came in from around the world. And the message is overridingly that we can act, solutions are there, and people are doing it on the ground. This is where we can learn a lot of lessons from the mountains and from the rural areas. One example being organic farming. We see how that is revolutionizing the way we're producing our food. And that is a system of incorporating conservation into the actual production process. And that is a learning lesson that we can take to the urban areas, to the cities. And where the ultimate goal is to become a self-sustaining system and basically work on the concept of biomimicry. Of copying what the environment is teaching us. So we run campaigns all over the place. This was our latest one with Città di Anzativa knocking out waste here in Italy. Then just to give you some concluding remarks, we're there to collaborate and cooperate. To raise the profile of climate actions that are already taking place. It's really important to link climate change to poverty because it's the most vulnerable who are being affected. And they're the least responsible for the issue. We need to emphasize that early action actually will cost us a lot less in the long term. So the urgency of the acting is really now. We also need to show that mitigation does not hinder economic development. I mean talking about those externalities. True Cost did a calculation and they came up with a figure of $4.7 trillion of externalities that are not being factored into the current economic system. We really need to emphasize that every individual can make a difference. And we need to empower the educators to lead us through that. So this is our latest publication. It's coming out today on Earth Day. in partnership with this initiative. Thank you so much. Thank you. Credo che vedere assieme i cambiamenti climatici e la parola anche povertà ci debba far riflettere molto anche su ciò che avviene anche sui nostri mari, certi arrivi sulle nostre coste che sempre più non sono dovute a solo questioni politiche ma anche a un mix di questioni politiche, questioni ambientali, questioni di cambiamenti anche climatici. Credo che questo sia un tema che ci riporta indietro, scusate se gli do il tuo ai doronghi ma ci conosciamo da tantissimo tempo quando si cominciava a riflettere sui temi pace, ambiente, mi viene in mente Alex Langer, non finiremo mai di rimpiangere ma tante altre persone che allora cominciavano questo cammino del mondo ambientalista e per fortuna poi sono finiti anche a fare il ministro, non lo dico io che ci manca molto anche se alcune leggi sono ancora lì, magari non completamente applicate purtroppo. Ecco, un cammino lungo, sviluppo sostenibile, pace, cambiamenti climatici, quante cose si ritrovano da allora in poi? Ricambio il saluto Tony, ogni tanto ci si ritrova e la giornata è mondiale quest'anno dell'ambiente dedicata, non poteva essere altrimenti al clima, alla crisi climatica e quindi mi collego a questo intervento di Max Edkins con qualche numero che forse bisogna sempre avere presente. In aprile, per la prima volta nella storia dell'umanità, abbiamo misurato il superamento della concentrazione di gas di serra di 400 parti per milione in volume, quindi questa è una pessima notizia. La storia dell'umanità, la civiltà umana è sempre stata influenzata dal clima, come è ampiamente noto. Questa storia si è sviluppata con una concentrazione di gas di serra tra i 200 e 250 parti per milione in volume di CO2. Noi nel giro di meno di un secolo l'abbiamo portata oltre i 400. Siamo alla vigilia di un livello che nel filmato che abbiamo visto è stato definito rischio catastrofico di crisi climatica. Questo rischio catastrofico è individuato anche dai rapporti dell'IPPC, cioè del panel intergovernativo IPCC sul climate change, sul cambiamento climatico, nel livello dei due gradi, con i trend attuali di aumento delle emissioni e della concentrazione di CO2, dovremmo entrare nel giro di pochi anni in un trend che andrà oltre, che andrebbe oltre questa scioglia dei due gradi. Io penso che questo punto debba essere posto alla riflessione centrale di questa giornata mondiale dell'ambiente, perché questo è il problema ambientale principale che l'umanità deve affrontare in questo delicatissimo passaggio. Si può affrontare la crisi climatica? Intanto non è che non sia stato fatto niente, quello che è stato fatto è risultato insufficiente. A partire dal protocollo di Chioto, il quale protocollo di Chioto ha raggiunto, qualcuno dice, ha fallito, non ha stabilizzato il clima. Però l'obiettivo del protocollo di Chioto era per i paesi dell'annesso 1 raggiungere una riduzione media del 5,2 per cento delle emissioni rispetto al 1990. Questo obiettivo è stato raggiunto, anzi è stato superato. I paesi dell'annesso 1 hanno ridotto le emissioni, non del 5,2 ma del 14, qualcosa. Però cos'è successo e cosa è cambiato rispetto al 1990? Che nel 1990 i paesi dell'annesso 1 rappresentavano circa, anzi un po' più della metà delle emissioni mondiali, paesi industrializzati e di nuova industrializzazione. Oggi sono scesi al 30%, il grande aumento è avvenuto in Cina, in Indonesia, nei paesi di nuova industrializzazione. Questo ha cambiato, e oggi la Cina ha emissioni pro capite simili, non totali, totali fatte per un miliardo e tre avete i risultati, ma pro capite simili a quelle europee. Anche l'Europa ha rispettato il protocollo, non solo ha rispettato. Nel protocollo di Chiotto l'Europa aveva un obiettivo di meno 8%. E io mi ricordo tutti i corvi che giravano intorno e dicevano come l'obiettivo medio dei paesi industrializzati è 7, l'Europa si piglia un punto in più. Ero la trattativa al tavolo che discuteva di queste cose. L'Europa ha ridotto le sue emissioni del 16%, non dell'8%. E perfino l'Italia, non so se qualcuno di voi, tu Tony, ricorderai sicuro quando torniamo dal Giappone con quell'obiettivo del meno 6,5%, quel ministro estremista che aveva dato l'avvallo a quell'obiettivo, che era un po' superiore a quello che ci spettava in base al border sharing letterale, perché poi alla fine per far tornare i conti ci prendemmo a quel mezzo punto in più, che sembrava una scelta assolutamente estremista. L'Italia ha superato il suo obiettivo al 7,8%. Un po' la recessione ha pesato, ma la concentrazione di CO2 per unità di PIL, l'aumento dell'efficienza energetica e le rinnovabili, le rinnovabili hanno avuto un boom in pochi anni, hanno contribuito in maniera significativa. Certamente le politiche climatiche non hanno aggravato la crisi economica italiana, semmai hanno svolto un ruolo di controtendenza. Ed è un po' qui, secondo me, la riflessione anche che si collega ai territori. Cioè, riusciremo a vincere questa sfida climatica, certamente se ci porremo dei target ambiziosi, ed è il momento di parlarne anche in Italia, perché sta un po' andando in sordino la tematica della crisi climatica. Sta riemergendo quella vecchia cultura meno baldanzosa, cioè che diceva se ci affissiamo degli obiettivi climatici avanzati produciamo un disastro economico. Non è più proprio così, però dice, guardate, non è il caso, c'è la recessione, non esageriamo con gli obiettivi climatici. Invece si può vincere quella sfida se si fanno di quegli obiettivi sfidanti un elemento di cambio di modello di sviluppo, di occasione di nuovo sviluppo nella direzione della green economy. Tutte le cose che sono chieste per fronteggiare, sia dal punto di vista della mitigazione, cioè riduzione delle emissioni, sia dal punto di vista dell'adattamento, cioè riduciamo l'esposizione e cerchiamo di limitare i rischi, perché ormai nella crisi climatica ci siamo, possono avere anche ricadute economiche di innovazione, di investimenti e di occupazione positive nella direzione della green economy. E questo secondo me è la parte positiva, perché dove si sono ridotte le emissioni si è potuto farlo con provvedimenti a più vantaggi, a vantaggi ambientali e a vantaggi anche economici. E questo è una via anche quella della green economy, non solo per affrontare la crisi climatica, ma per affrontare anche la recessione, la bassa crescita, la crisi occupazionale. Perché una sfida comporta dei cambiamenti. Dei cambiamenti sono occasione di innovazione. Tornando all'Italia, se giustamente posto l'accento sul carattere, diciamo, l'importanza del patrimonio naturale, dei territori montani, marginali, nel modello italiano, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sia dal punto di vista della qualità del benessere. Ovviamente sottoscrivo tutte queste osservazioni che indicano una via possibile per la ripresa di uno sviluppo anche climaticamente sostenibile per l'Italia. Vorrei aggiungere però un terzo fattore. L'Italia è il paese di natura, cultura e manifattura. L'errore storico è stato di contrapporre la manifattura ai primi due. La strategia della green economy punta a legarli tutti e tre e a legarli in una riqualificazione dei territori. Si può fare cultura, natura e manifattura nella strategia della green economy con elevata qualità ambientale, in maniera sostenibile per l'ambiente e il clima e anche con nuove prospettive economiche. E qui gli esempi ormai, per fortuna, abbiamo molti esempi positivi. Cioè noi non abbiamo solo un'agricoltura, chiamiamola, di resistenza, di vecchio modello, ma abbiamo un'agricoltura di elevata qualità che punta sull'integrazione ambientale, sulla multifunzionalità. Anche le agroenergie rinnovabili hanno dato un contributo. Perché per tenere i giovani in montagna e in campagna bisogna che il reddito sia sostenibile, bisogna che le attività economiche siano convenienti, oltre ad avere modelli di vita e stili di vita che siano appetibili. Io mi ricordo quando giravo per la costituzione dei nuovi parchi, e in quegli anni ne facemmo molti, incontrando le comunità e i giovani, stavamo nell'appennino tosco-emiliano. Una delle osservazioni che mi fessero i giovani, che stavano tutti, andavano via, e noi, era vero, in una strategia dei parchi, era quella di richiamare i giovani sui territori. Era non economico, ma le ragazze non si vogliono fidanzare con noi perché non vogliono più stare in montagna. Ci dobbiamo trasferire in città, se no non troviamo la fidanzata. I modelli culturali hanno un grande peso per la permanenza sui territori, e quindi questa attrattività dei modelli urbani, alto consumismo, certi stili di vita, hanno una capacità attrattiva che bisogna cambiare, bisogna rendere attrattiva una diversa qualità del benessere. In parte sta avvenendo, perché è uno dei pochi settori, penso che lo sappiate, dove la disoccupazione giovanile è frenata e c'è un rientro di giovani, è l'attività agricola, di qualità, con un richiamo di giovani sui territori, appunto quelli marginali. Vabbè, un po' è fare di necessità virtù, non trovi un cacchio di altro lavoro, quindi quello che trovi, senza farci troppe poesie. Però un pochino, un pochino, un pochino c'è. Ci sono storie concrete che si stanno verificando in direzione opposta a quella che abbiamo avuto nel passato. Ecco perché una riflessione sulla green economy è opportuna per fronteggiare la crisi climatica, ma in chiave di rilancio di nuova qualità, di nuove opportunità di sviluppo e di occupazione. A me un po' in effetti preoccupa che anche nel dibattito sulla crisi italiana non si colga la dimensione complessa delle crisi attuali e non si colga come la crisi climatica sia parte della crisi sociale e economica, ma sia anche parte della possibile soluzione. Il futuro nostro ormai sarà condizionato dall'esito di questa crisi climatica. Gli studi non sono abbondanti, c'è stato questo di Sterna che ha valutato gli impatti sull'economia della dinamica della crisi climatica in diversi punti del PIL, ma il nostro futuro dipenderà da come sapremo affrontare la crisi sia dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Noi abbiamo in questo semestre la Presidenza europea, entro l'ottobre il Segretario delle Nazioni Unite convocherà i Capi di Stato e di Governo. L'anno prossimo ci sarà la ventunesima conferenza, le sto contando con una certa ansia, delle parti sul cambiamento climatico a Parigi, che dovrebbe concludersi sul nuovo accordo internazionale post-chiotto che fisserà i nuovi obiettivi che dovrebbero essere legalmente vincolanti, non si sa ancora attraverso quale forma giuridica. In ogni caso le previsioni che si fanno, che l'accordo sarà difficile, ma anche i cinesi stanno cambiando per gli impatti che la crisi climatica ha sulla Cina, sono diventate pesantissime inondazioni, ondate di calore, vivibilità delle città. È diventato un punto fortissimo del quinto piano quinquennale economico cinese, questo delle tecnologie verdi e del clima su cinque obiettivi, tre sono legati a queste grandi problematiche. Quindi si arriverà, chi ci arriva prima, cioè predispone un modello economico, lo carbon o a bassissime emissioni di carbonio, riuscirà a rimanere nella competitività e nella qualità. Chi si adatterà prima e meglio riuscirà a sostenere l'urto della crisi climatica, chi non lo farà rimarrà indietro, cioè ci sarà una ridislocazione non delle classifiche, adesso noi abbiamo perso un posto rispetto al Brasile, ma se pensiamo a come l'Italia potrebbe essere colpita dalla crisi climatica, come è già colpita, anche se noi non colleghiamo ancora, neanche i media lo fanno raramente, abbiamo visto che c'è un'intensificazione dei fenomeni atmosferici estremi, che abbiamo delle aree che ormai sono alluvionate con una frequenza pazzesca, però pensiamo ancora al clima come si faceva una volta, e beh ecco, al clima non ci possiamo fare niente, è una specie di rassegnazione. L'Italia è sia nella sua ricchezza del patrimonio naturalistico, sia nella sua ricchezza di tessuto produttivo molto esposta al rischio e al cambiamento climatico, quindi dovrebbe essere in prima fila a promuovere sia gli interventi di mitigazione, cioè per fare molto di più, per tagliare le emissioni di gas di serra, sia per cominciare ad attuare politiche attive di adattamento alla crisi climatica, e queste coinvolgono decisamente i territori. Insomma, c'è una grande prospettiva con una grande potenzialità, ci vorrebbe anche un po' più di consapevolezza. Ma credo che l'intervento di Edo Ronchi abbia racchiuso il termine occasione, economia, ambiente, sviluppo sociale, ci sono tutti gli elementi, non stiamo parlando del buon selmito, del buon selvaggio, noi siamo ben altro. In tutto questo spaccato che è stato raccontato ai notti dei relatori, rimane l'ultimo personaggio, che è quello del cittadino. La cittadinanza attiva che nel suo nome dice di che cosa si occupa e da lungo tempo, pochi giorni fa il Censis ha presentato la relazione sullo stato delle scuole, mi sembra che la cittadinanza attiva lo presenti da forse 15-20 anni. Vabbè, Censis è bravo a vendere il proprio prodotto, se no non sarebbe De Ritter. Ecco, Marco Re, presidente di Cittadinanza Attiva, il ruolo in tutto questo del cittadino? Vittima sicuramente, ma anche protagonista. Io avevo una presentazione, la lascio per gli usi multimediali, essendo l'ultimo a intervenire anche dato il lancio che mi è stato fatto dal moderatore. Proverò ad arrivare allo ruolo del cittadino e delle iniziative dal basso come contributo possibile rispetto al ragionamento che è stato fatto complessivamente attorno alla tavola rotonda perché, devo dire, un po' per la conoscenza da lungo tempo di alcuni dei relatori e un po' perché effettivamente c'è stata una sintonia sui tematismi trattati rispetto alla particolarità della giornata di oggi che non è consueta nelle tavole rotonde. Riesco a focalizzarmi su alcuni aspetti proprio con questa chiave di lettura. Volevo partire dal tema della tavola rotonda e della montagna. Mi è capitato recentemente, con qualcuno che è anche in sala, di trovarci a ragionare proprio dell'Appennino nella prospettiva della Convenzione delle Alpi in un recente convegno scientifico. Abbiamo passato due giorni insieme, pensando anche insieme al Ministero dell'Ambiente, a cosa si può fare per ricostruire sulla base degli eventi e degli atti che sono stati generati in quei territori, tra i quali anche la creazione dei parchi di cui si parlava in precedenza, una condizione di attrattività in un nuovo modello che sia ovviamente un modello che guardi in maniera differente alla prospettiva di lungo periodo. Uno degli elementi che è emerso oggi è che noi abbiamo bisogno di avere una visione di lungo periodo, in cui il modello di sviluppo ritorni in parte a una serie di elementi nell'uso ragionevole delle risorse, nella capacità di gestire in modo circolare tutti i cicli delle risorse stesse, che 60-70 anni fa nel nostro Paese c'era, non è che non ci fosse. Poi c'è stata un'abriocatura della società dei consumi e degli stili di vita, che è stata evocata in precedenza, che ci ha portato un po' lontano da quelle che sono le nostre caratteristiche intrinseche. In questo ragionavamo con specifico riferimento alla montagna, che anch'io sono d'accordo. È più il ragionamento che ci troviamo a fare oggi degli elementi virtuosi della montagna da trasserire alla città, un elemento prospettico. La montagna oggi soffre di tutta una serie di elementi di crisi che sono stati richiamati. Il primo problema è stato poi riassunto dai Doronchi, con il suo ricordo delle visite nei parchi che nascevano, è quello di trattenere risorse, capitale umano di elevato livello nelle montagne. Il classico tema di attrattività, perché è l'ambito nel nostro Paese che soffre di più di uno spopolamento. Tra l'altro noi non abbiamo il problema delle foreste e dei parchi e dei boschi, perché stanno crescendo, sono cresciuti negli ultimi dieci anni. Si riduce l'uso dell'agricoltura, che ha quella funzione che è stata anche ricordata dall'assessore di manutenzione del territorio. E allora, quali sono le condizioni per far sì che le montagne possano essere un luogo attrattivo? In controtendenza rispetto a quello che è il scenario globale, perché se usciamo dai nostri territori e ragioniamo a livello globale, noi sappiamo che nel 2050 l'80% della popolazione mondiale vivrà in megalopoli. E allora, quali sono gli elementi per consolidare, nei Paesi in cui ciò è possibile, questi fattori importantissimi che sono legati non soltanto a una manutenzione del territorio necessaria, non soltanto a una realizzazione degli investimenti che sono stati fatti anche di tutela delle risorse, della biodiversità, di tutto ciò che è sempre più indispensabile anche per i cicli economici e per le stesse imprese. Ma anche e soprattutto perché questa è una componente essenziale di un nuovo stile di vita e di consumo. E lì, uno dei temi di cui discutevamo erano i nuovi montanari, chi sono? Quale capacità di attrazione si può generare in luoghi che hanno tutti gli ingredienti che evocava Edoronchi, cioè quelli culturali perché abbiamo un sito dell'UNESCO, quelli ambientali perché abbiamo più del 50% di aree protette in questi territori, quelli economici perché esistono delle diversità nell'offerta dei prodotti e dei servizi particolarmente significativi. Cito la Valcamonica per prendere uno dei tanti luoghi anche fuori dall'Appennino in cui esistono tutti questi ingredienti, ma nell'Italia centrale ce ne sono tantissimi. Ecco, il problema è che se partiamo dal ragionamento sul turismo che faceva Grimaldi, il tasso di crescita dell'attrattività turistica del nostro Paese ci pone in 174esima posizione al mondo. 174esima. Cresciamo pochissimo. È vero che laddove c'è più naturalità, più sostenibilità, si è in controtendenza. È vero che nelle zone sciistiche in questo momento la domanda non è più nei confronti del turismo da discesa libera o da snowboard, ma ne crescono a due cifre tutti i servizi che sono legati a una fruizione completamente diversa, non infrastrutturata, della natura e della montagna. Con cose curiose, tipo le slitte con i cani aschi che hanno un successo clamoroso in alcune località di montagna. Quindi anche con un target che non è esattamente quello a cui stiamo pensando in questo momento. Allora, questo è un aspetto importante. Cioè noi abbiamo bisogno di ripensare il modello di sviluppo e qui facciamo gli italiani, come si diceva, andando a cercare quelle che sono le nostre grandi caratteristiche che in una prospettiva di lungo periodo devono essere gli ingredienti chiave. Che è la capacità di essere differenti in tutto ciò che caratterizza la nostra offerta. Sia manifatturiera, sia culturale, sia ambientale, la biodiversità, tutto insieme. Perché siamo un paese straordinario da questo punto di vista e non possiamo essere 174esimi dal punto di vista dell'attrattività. Poi il tema dell'attrattività è un pochino più complesso, perché noi abbiamo bisogno non solo di attrare i turisti che vengono e stanno una notte e farli rimanere per cinque notti e magari destagionalizzare le presenze. Abbiamo un problema di tenere le persone che ci vivono, magari ci vivono per metà del loro tempo, perché capita anche questo, che si decida di passare una parte della propria vita in contesti con certe caratteristiche dove la qualità della vita raggiunge l'apice e per l'altra metà poi magari si viva in contesti urbani perché sono comunque un concentrato di opportunità professionali e di altra natura. Ecco, questa era la prima considerazione che volevo fare al proposito. La seconda è relativa a un altro tassello. Allora, il ragionamento che noi facciamo con riferimento in particolare alle grandissime sfide come il climate change e più in generale all'uso delle risorse è abbastanza ben delineato. Anche qui troveremmo un consenso amplissimo se oggi il tema fosse stato l'uso efficiente delle risorse e le politiche che soprattutto a livello comunitario esistono in questo ambito. Noi abbiamo un grande bisogno di fare meglio con meno, non solo perché stiamo vivendo in un periodo di crisi, ma come abbiamo detto prima, perché stiamo recuperando una logica in cui usiamo l'evocazione agricola del maiale non si butta via niente. In questa prospettiva, evidentemente, si tratta di riuscire a capire come un uso efficiente delle risorse sia un tassello essenziale per quel modello di sviluppo di lungo periodo che dicevamo in precedenza. La consapevolezza su questo sta crescendo a tutti i livelli. il problema è che non si riesce, come è stato detto, a mettere in moto un sistema. L'Italia è completamente ferma da questo punto di vista e l'Europa non viaggia molto più velocemente, malgrado i risultati sul climate change che citava Edo. Perché? Allora, qui la mia convenzione, quella che voglio condividere attorno al tavolo, è che sia necessario mettere insieme le forze in una logica che sia contestualmente top down e bottom up. Allora, le istituzioni in questo momento mostrano sempre di più la corda, la mostrano a livello internazionale. Siamo arrivati a io con dei lavori fantastici dal punto di vista dell'analisi della centralità della green economy, della resource efficiency, il rapporto dell'UNEB del 2011, quello dell'Ocse, avevamo tutto. Siamo arrivati là, il documento con cui siamo usciti dalla conferenza di Rio vent'anni dopo è una schifezza. È lungo, anziché essere sintetico come quello del 1992. E non ci sono dei commitments. Porca c'è la miseria. Allora, a questo punto, come si fa a avere dei commitments, degli impegni veri da parte di tutti noi, dei progetti, per cambiare le cose? In quella direzione, dentro uno scenario complessivo, che ripeto, non è scritto, però non ci si mette molto a comporlo. Allora, c'è bisogno di aiutare le istituzioni che in questo momento sono più in crisi di quello che assolutamente dovrebbero essere, con una spinta dal basso. E questo è l'unico modo attraverso il quale si può recuperare una capacità di sintonia complessiva per fare davvero le cose insieme, perché delle istituzioni c'è un assoluto bisogno, anche di quelle internazionali che soffrono di più in questo momento della debolezza nel tenere insieme realtà, mondi che non trovano il punto di convergenza. C'è un grafico nella mia presentazione che in realtà è un grafico dell'UNEP, che legge l'insonesternibilità del mondo attraverso due variabili. I paesi che stanno meglio in termini di qualità della vita, sono quelli che consumano le risorse degli altri. E siamo noi. E noi occidentali, quando andiamo nei contesti internazionali, dobbiamo tenere conto di questo elemento. Non riusciamo a essere convincenti nel momento in cui non siamo capaci noi di cambiare il nostro modello. Gli stili di vita e il modello economico. dobbiamo ridurre, in effetti, l'uso delle risorse. Arrivo al terzo tassello di questo ragionamento. Il terzo tassello è cittadinanza attiva. È stato detto i cittadini in questa logica multiattore e anche dal basso cosa possono fare? Quale può essere il loro contributo? Allora, sposando la sollecitazione a essere concreti, vi racconto di un progetto che tra l'altro è stato presentato proprio a Spoleto. Eravamo insieme con Connect for Climate in quell'occasione. Ce la fai due minuti? Due minuti, sì, ce la faccio. Il progetto si chiama Disponibile ed è uno dei tre progetti che noi abbiamo messo in un contenitore che ha il titolo Spre K.O. Lottiamo contro lo spreco. È una traduzione se volete molto pragmatica del ragionamento che facevamo prima. Fare meglio con meno vuol dire innanzitutto eliminiamo gli sprechi e ne sprechiamo di risorse nel nostro paese. Infatti c'è lo spreco alimentare però io voglio parlare lo spreco ambientale più specificamente e in questo abbiamo concentrato la nostra attenzione su l'uso di quel patrimonio grigio su cui ci sono stati investimenti pregressi gli edifici i capannoni certi tipi di infrastrutture che oggi sono inutilizzati e sono tantissimi la crisi ha creato dei vuoti anche dentro le città nelle periferie nelle zone di contiguità tra città e campagna in montagna da questo punto di vista non ci sono distinzioni e tutti soffrono della stessa dinamica e dall'altra parte c'è la possibilità si parlava dello studio sul terzo settore che ha dato dei numeri incredibili poi bisogna ragionare bene quale di quel terzo settore si occupa davvero dei beni comuni però è il discorso che si farà in un altro contesto di riuscire a far sì che tutta questa capacità di azione secondo principio di sussidiarietà il nostro paese ha anche l'articolo 118 della costituzione che prevede questa partecipazione dal basso orizzontale dei cittadini facilitata dalle istituzioni per costruire progetti concreti di uso delle cose allora si va da quelli più semplici che stanno cominciando a fiorire che a livello internazionale in alcuni contesti sono degli elementi importantissimi per la costruzione di un'azione collettiva e di coesione perché quello di cui abbiamo bisogno che è l'ingrediente finale del ragionamento che facevamo prima è di riuscire a essere parti di una strategia comune le famiglie rispetto alla montagna sono una dimensione importante ma non bisogna limitarsi a quella bisogna parlare di comunità perché è solo così che si riesce a costruire davvero un nuovo modello ecco in questo senso la capacità da parte diciamo di noi cittadini da un lato di segnalare di individuare i luoghi che sono sprecati e dall'altra di essere propositivi sul come possono essere utilizzati facendo sì che tanti piccoli impegni che ci sono già stiamo mettendo in rete in realtà tante iniziative che esistano possano essere un esperimento collettivo visibile perché poi il problema è non solo fare le cose ma farle vedere e creare aggregazione collettiva da questo punto di vista su il fatto che nel nostro paese c'è una capacità di usare e valorizzare le proprie risorse in maniera sistematica anche qui poi chiudo dove il concetto di valorizzazione non ha tabù non c'è una valorizzazione sbagliata nelle aree protette se questa è corrispondente al fatto che le aree protette sono il luogo della conservazione delle risorse in primis sono stato l'altro giorno sempre per un un convegno in un posto che mi ha sorpreso nel centro delle marche parlavamo di Italia centrale c'è un posto si chiama Badia di Fiastra in cui 180 ettari gestiti da una fondazione privata attraggono tutti i giorni e in particolare nei weekend migliaia di persone in un territorio che è quasi un'area interna è abbastanza vicino al mare a dire il vero però non è sicuramente il luogo emblematico in cui noi possiamo avere un pacco tematico non siamo a Rimini o Riccione è anche una riserva naturale dello Stato c'è un parco archeologico con un teatro romano e sono riusciti un'abbazia circense cioè un paradiso e nel nostro paese di posti di questo genere ce ne sono dove il tema dell'attrattività ritornando al tema iniziale si può toccare con mano e se andiamo in giro nel centro dell'Italia di luoghi che hanno tutte queste caratteristiche e che magari qualcuno straniero ha anche individuato ma se lo tiene stretto perché è un posto da godere intimamente da un certo punto di vista siamo estremamente lotati ecco il ragionamento è questo facciamo sì che questi piccoli gioielli siano ovunque nel nostro paese non ci siano delle brutture incredibili perché abbiamo sprecato un patrimonio ripeto grigio su cui sono stati fatti tantissimi investimenti per generarlo e smettiamola poi di utilizzare il suolo per altre cose perché ci serve per l'agricoltura per un'agricoltura sostenibile che sostenga quella componente manifatturiera che è un ingrediente chiave del nostro paese e anche qui di esempi ne abbiamo tanti ma non ne parliamo oggi abbiamo finito dopo aver riflettuto sui mutamenti climatici globali siamo finiti a parlare di proposte concrete che mi sembra la cosa più importante che se noi restiamo sempre a rechiacchiere ci dimentichiamo delle cose che poi tutti i giorni tocchiamo con mano o nel bene o nel male citando un'esperienza bella se vi dico Rosarno vi viene in mente il peggio che peggio sono stato recentemente andato a visitare Medma la città Rosarno si chiamava Medma era una città della Magna Grecia c'è un piccolo museo un piccolo parco archeologico uno splendido in mezzo uno splendido oliveto scopriamo un altro Rosarno ecco non c'è solo l'abbatia di Fiasta dove forse nelle Marche è anche senza forse è molto più facile farlo c'è anche in questo paese che è la negazione forse del bello Rosarno se vi capita fermatevi un attimo c'è anche lì il bello natura storia cultura assieme e anche manifattura perché lì facevano della splendida ceramica ahimè una cultura che si è persa non so se Pierluigi Sassi vuole dire qualcosa per concludere ringrazio tutti adesso allestiamo il secondo tavolo di lavoro se volete prendere un caffè è a disposizione nella sala attigua grazie allora visto che siamo in ritardo cominciamo prendiamo il testimone dalla precedente tavola rotonda e quindi ora ci occupiamo delle imprese sociali e familiari che costruiscono nuove opportunità e la finanza che supporta il loro sviluppo allora Airday Italia ha voluto organizzare questa seconda tavola rotonda per dimostrare che in un contesto socio-economico di grande difficoltà e di crisi ci sono spazi per dei nuovi modelli di sviluppo che hanno delle prospettive di ripresa e opportunità di occupazione naturalmente essendo la giornata mondiale dell'ambiente e peraltro nell'anno internazionale dell'agricoltura familiare l'attenzione chiaramente si focalizza sull'ambiente quindi su quei progetti che possono essere in armonia con l'ambiente progetti di cooperazione progetti che appunto possono creare lavoro e competitività quindi dare dei segnali anche di opportunità di ripresa al paese ovviamente per sostenere dei progetti nuovi progetti occorre anche che ci sia una finanza disponibile a raccogliere queste sfide e quindi una finanza che si contrapponga a quella stretta del credito che abbiamo conosciuto come credit crunch e che ha praticamente chiuso i rubinetti sia alle famiglie sia alle piccole imprese quindi che cosa significa significa scommettere su delle nuove idee esattamente come è avvenuto per quanto riguarda il settore tecnologico con imprese che conosciamo ormai benissimo da Apple a Google che all'inizio hanno cominciato come start up e che sono diventati chiaramente dei colossi quindi qui sentiremo parlare di impact investing social impact bond di finanza sociale ed etica quindi si tratta come ho accennato di una finanza intelligente e lungimirante che raccoglie queste sfide naturalmente l'obiettivo è anche quello di avere un ritorno economico però vuole anche rispettare l'ambiente vuole l'inclusione sociale vuole essere appunto etica allora io direi che anche perché i tempi sono abbastanza stretti possiamo cominciare ascoltando l'intervento di Davide Dalmaso che è segretario generale del forum per la finanza sostenibile grazie ma dunque io approfittando del fatto che dopo di me ci sono delle testimonianze di persone e organizzazioni che hanno un ruolo molto operativo e che quindi possono presentare dei casi e delle situazioni concrete forse più interessanti di quelle che posso intercettare io dal mio osservatorio vorrei cercare di svolgere un ragionamento iniziale sul ruolo della finanza come promotore di cambiamento spesso quando mi qualifico come segretario di un'associazione che si chiama forum per la finanza sostenibile la gente sorride perché trova che ci sia una contraddizione in termini tra finanza e sostenibilità quasi fosse uno simoro e in effetti credo che mi pare di aver visto di recente un sondaggio secondo cui la finanza è dopo la categoria dei politici quella con la peggiore reputazione nel nostro paese e non credo peraltro che in altri paesi la situazione sia molto diversa in generale sta nel podio dei cattivi io non devo non credo di aver titolo per fare l'avvocato d'ufficio della categoria peraltro io non lavoro nella finanza non provengo da quel mondo e quindi non ho titolo per farlo tuttavia credo che almeno in parte questa cattiva reputazione sia immeritata e lo dico perché a fronte di numerose ahimè evidenze di comportamenti opportunistici scandalosi nel mondo della finanza in realtà c'è un mondo vasto ramificato di finanza buona che è quella che tiene in vita l'economia e il sistema soprattutto mi piace ricordare prima di tutto a me stesso che la finanza è nata con obiettivi di natura sociale i primi banchieri furono gli ordini religiosi le prime istituzioni finanziarie furono i monti di pietà il cui obiettivo era quello di affrancare i poveri dal loro stato di indigenza e quindi offrire delle occasioni di partecipazione alla vita economica e quindi alla vita civile di una comunità e per secoli è stato così poi a un certo punto questa storia ha avuto un punto di svolta da un certo punto in poi la finanza ha cessato di essere al servizio dell'economia reale ed è diventato qualcos'altro e questa circostanza si è realizzata nel momento in cui la finanza ha cessato di essere un mezzo e ha cominciato a essere utilizzata e percepita come un fine in sé cioè quando si è cominciato a intenderla come un modo per far soldi per far soldi con i soldi quindi usando il denaro come merce e non invece come strumento di attivazione dei cicli economici ecco di fronte a questa evidenza storica mi viene da dire credo che ci siano due considerazioni che vanno svolte la prima è che la finanza non è un'attività generativa nel senso che la creazione di valore sta nelle attività economiche sottostanti quando un'istituzione finanziaria fa credito o investe nel capitale di rischio di un'attività economica permette l'attivazione dei cicli economici ed è nelle imprese nelle attività delle famiglie che si genera il valore che poi in parte viene anche acquisito da chi gestisce le risorse finanziarie ma non è l'investimento in sé che genera il valore è sempre l'attività economica che ci sta dietro o ci sta sotto dove il valore si crea e la seconda considerazione che mi sembra di poter di dover svolgere per argomentare questa premessa che ho fatto è che la finanza non è un'attività socialmente neutrale soprattutto qualche anno fa quando ho cominciato a occuparmi di questi temi e parlavo con banchieri assicuratori e gestori di patrimoni la risposta che mi veniva data di fronte alle obiezioni sulla responsabilità sociale di queste istituzioni era che in realtà gli impatti economici venivano realizzati appunto da chi questi denari li utilizza per fare qualcos'altro non dall'istituzione finanziaria in sé e in realtà a mio avviso così non è nel senso che affidare le risorse finanziarie a un soggetto piuttosto che un altro produce degli effetti ambientali e sociali molto diversi da caso a caso e credo che questa ambiguità di fondo sia legata al fatto che un po' tutti noi consideriamo la finanza come una specie di scatola nera mettiamo dentro questa scatola 100 euro tiriamo una leva come in una slot e ci auguriamo che ne escano 101, 102, 110, 200 sapendo che però c'è anche il rischio che ne escano 0,80 o addirittura che non esca più niente come appunto fosse un gioco i cui meccanismi ci sono sconosciuti in realtà dentro questa scatola nera ci sono appunto le famiglie le aziende le persone sono quelle che hanno bisogno delle risorse finanziarie per poi lavorare attivare i cicli economici produrre ricchezza per sé e per gli altri e quindi consentire al sistema nel complesso di crescere peraltro questo atteggiamento e va detto con onestà non è proprio solo dei lupi di Wall Street di queste figure mitiche ciniche che squallide grette e meschine in realtà questa aspettativa c'è anche in chiunque di noi faccia un investimento finanziario che si aspetta o spera si augura di avere il maggior ritorno possibile sapendo o meglio non sapendo o fingendo di sapere in qualche caso che quando il ritorno è alto è molto alto spesso c'è dietro qualcuno che ci rimette cioè la creazione di valore quando supera una certa soglia spesso nasconde lo sfruttamento di qualcosa o di qualcuno del capitale naturale del capitale sociale del capitale umano ecco quindi questo atteggiamento di come dire quasi fideistico nei confronti dei meccanismi della finanza è insito in ciascuno di noi e dipende molto dalla scarsa conoscenza dei meccanismi che stanno alla base della creazione di valore nel settore della finanza ma credo insomma che possiamo condividere tutti che se vogliamo che la finanza riacquisti il ruolo che lei è propria dobbiamo spogliarla di questa caratteristica di finalità di autogiustificazione e ricondurla al proprio ruolo di strumento e naturalmente come tutti gli strumenti anche la finanza non è buona o cattiva in sé dipende dall'uso che se ne fa qualsiasi strumento può essere usato a fini buoni o a fini cattivi un coltello può essere usato per spezzare un pane e condividerlo o può essere usato per offendere per uccidere per ferire e analogamente accade con i prodotti finanziari tanto vituperati i prodotti derivati non sono di per sé cattivi anzi sono nati come strumento di protezione del rischio in realtà l'abuso di questi strumenti ha fatto sì che diventassero dei generatori di rischio dei generatori di instabilità economico e finanziaria detto tutto questo chi siamo che cosa facciamo e per che cosa lavoriamo l'associazione che rappresento è un'associazione multistakeholder che associa oltre a banche assicurazioni società di gestione di risparmio anche le altre organizzazioni che sono impattate dagli effetti ambientali e sociali dell'attività finanziaria e quindi i sindacati le associazioni dei consumatori le associazioni ambientaliste i fornitori di servizio e molti altri e proprio per questa sua natura di organizzazione multistakeholder cerca di massimizzare l'area di obiettivi comuni in ultima analisi l'obiettivo nostro è quello di aumentare la dimensione delle masse finanziarie che vengono orientate verso attività economiche capace di generare esternalità positive per la società come dicevo prima investire in una società che in un'impresa per esempio che inquina sfrutta il lavoro frode i propri clienti maltratti i propri dipendenti o i propri fornitori eccetera eccetera crea delle esternalità negative come facilmente intuibili rispetto ad un'impresa che invece protegge l'ambiente propone dei prodotti dei servizi che vanno nella direzione di cui abbiamo parlato questa mattina che ha delle relazioni leali con i propri stakeholder e così via questo approccio alla finanza e all'attività di investimento in particolare comporta due vantaggi che sono vantaggi sia per l'investitore che per la comunità tutela dal rischio e genera delle opportunità di crescita economica sana tutela del rischio perché investire in un'impresa che che non incorpori tra i propri obiettivi strategici anche quelli della sostenibilità comporta inevitabilmente dei rischi per l'attività economica che siano dei rischi legali rischi di mercato o a volte semplicemente si fa per dire rischi di reputazione e quindi investire in società tra virgolette buone anche dal punto di vista ambientale sociale e del governo societario in realtà produce anche degli effetti economici positivi per gli investitori riduce il rischio riduce la volatilità e molto spesso migliora anche il rendimento finanziario ma soprattutto crea delle opportunità cioè orienta l'economia in una direzione che è più coerente con quella degli obiettivi di politica pubblica di cui abbiamo parlato nella prima parte della mattinata questa pratica dell'investimento sostenibile e responsabile si estrinseca nella realtà in vari modi attraverso diversi strumenti credo che poi Alessandra Viscovi ne parlerà più diffusamente parlando dell'esperienza di etica SGR mi voglio focalizzare su uno strumento in particolare che è stato anche richiamato dalla nostra moderatrice che è quello dell'investimento di impatto o impact investment che è forse la forma più innovativa di finanza sostenibile e responsabile e lo è perché rovescia i termini della funzione obiettivo tipica dell'investimento normalmente l'obiettivo dell'investitore è massimizzare il ritorno finanziario tenendo presente alcuni vincoli che sono di natura legale o di natura etica o morale o quant'altro e con l'investimento di impatto i termini di questa funzione sono rovesciati nel senso che l'obiettivo è quello di massimizzare il ritorno sociale e il vincolo è quello della sostenibilità economica quindi gli investitori di impatto cercano imprese quelli che vengono chiamati i social business in italiano traduciamo impresa sociale anche se è un termine che ha qualche ambiguità imprese che fanno della generazione del valore sociale la propria ragione d'essere la propria missione naturalmente in quanto imprese devono essere sostenibili quindi devono anche produrre un plus valore sufficiente per garantire la continuità nel tempo e la remunerazione del capitale come tutti gli altri fattori di produzione ma il loro obiettivo non è generare più valore economico possibile bensì più valore sociale possibile ecco naturalmente questa è una una sfida di forte innovazione esistono diversamente da quanto si possa pensare investitori sia privati istituzionali che sono disposti a investire parte più o meno ampia del proprio patrimonio in questa direzione perché lo trovano coerente con il proprio approccio con i propri obiettivi anche individuali oltre che istituzionali e quindi credo che questa sia un'area di sviluppo e di interesse per la comunità finanziaria che presenta una sfida di grande prospettiva politica naturalmente io non sono oggi nella condizione di dire se questa sfida sarà colta e se la comunità finanziaria internazionale e italiana in particolare sarà in grado di realizzare tutti gli strumenti e gli obiettivi che sono insiti in questa sfida però credo che ci siano tutte le condizioni per farlo e credo che dobbiamo lavorare in questa direzione evitando i processi alle intenzioni ma realizzando quel sistema equo di incentivi e di sanzioni quindi di bastone e di carote oltre che i sermoni in cui siamo tutti specialisti per realizzare delle condizioni che incentivino gli investitori ad andare in questa direzione io credo che in ultima analisi anche gli investitori più cinici riconoscano che esiste un'area di obiettivi comuni a tutta la società e che senza raggiungimento dei quali non ci sarebbe nemmeno la finanza cinica grazie i concetti positivi sono quelli che piacciono di più quindi la finanza buona anche un aumento di rendimento va bene però sempre nell'ottica chiaramente del benessere comune che va appunto dall'ambiente alle persone quindi ovviamente un'economia sana dovrei dare la parola adesso a Federico Mento che sostituisce Giovanna Melandri che non è potuta essere presente lui è team manager di Human Foundation però ovviamente gli chiediamo anche come procede il questa task force internazionale sugli investimenti sociali di cui appunto Giovanna Melandri è rappresentante per l'Italia ed è una task force promossa da David Cameron in occasione della presidenza inglese del G8 nel 2013 grazie grazie beh diciamo partirei sostanzialmente dall'intervento del dottor Dalmaso che si poneva il problema di come le istituzioni in un certo senso possono recepire e promuovere il filone della finanza d'impatto ecco dentro questa partita che è una partita estremamente importante ed estremamente decisiva si colloca tutta la riflessione che è partita diciamo nel giugno del 2013 con l'istituzione della Social Impact Investment Task Force ecco la Social Impact Investment Task Force è stata fortemente voluta dal presidente Cameron ricalcando in un certo senso la Social Impact Investment Task Force inglese del 2000 che aveva come compito quello di individuare gli ambiti e i vettori di crescita del settore degli investimenti degli investimenti sociali ecco la la task force del G8 raccoglie quindi gli esponenti del mondo della finanza d'impatto della finanza sociale degli investimenti sociali a livello dei paesi membri forse più che G8 forse sarebbe il caso adesso di definirla G7 visto le ultime vicende però all'interno quindi della task force sono rappresentati il mondo della finanza istituzioni e che stanno ragionando su come a livello internazionale e a livello nazionale si può promuovere il settore degli investimenti di impatto sociale una riflessione che si sta concludendo a Londra il 19 del 22 giugno ci sarà un incontro plenario della task force in cui sostanzialmente verranno definite le linee guida del rapporto che verrà poi presentato a settembre e ad ottobre a Roma 28 e 29 di ottobre ci sarà un ulteriore appuntamento della task force durante il semestre di presidenza italiana questo percorso è un percorso estremamente interessante su più livelli chiaramente a livello internazionale perché si sta ragionando di come diciamo intervenire per favorire il mercato e lo sviluppo di questo settore che oggi se andiamo a vedere i numeri è sicuramente poco consistente ma che nelle analisi dei più importanti analisti ha margini di crescita e di potenzialità molto grandi secondo alcune stime potrebbe raggiungere l'1% dei portafogli diciamo di investimenti a livello internazionale che può sembrare diciamo una cifra molto piccola ma in realtà è un volume estremamente grande di risorse che fluiscono quindi ad imprese sociali e a realtà ad impatto sociale ecco quindi a livello internazionale c'è diciamo la riflessione sugli strumenti sui mezzi che possiamo mettere in campo per favorire diciamo lo sviluppo di questo nuovo settore di questa finanza responsabile 2.0 se mi consentite in termine cioè se la finanza responsabile in un certo senso ha una funzione difensiva invece la finanza ad impatto ha una funzione veramente generativa diciamo di valore sociale nei territori nelle comunità e a livello nazionale anche diciamo la task force ha prodotto e sta producendo una serie di risultati estremamente positivi in primo luogo abbiamo raccolto attorno a un tavolo sostanzialmente quasi tutti gli operatori o pressoché tutti gli operatori del settore quindi diciamo il mondo della finanza i grandi investitori istituzionali penso i fondi pensioni e le assicurazioni e chiaramente diciamo tutte le realtà del terzo settore dell'imprenditoria sociale avanzata che stanno ragionando attorno insomma al tema della sostenibilità dell'imprenditoria sociale quindi stiamo lavorando su questo aspetto e a breve dovremmo pubblicare un corposo rapporto del lavoro della task force italiana che si è articolata su sei gruppi di lavoro che hanno diciamo ragionato lungo un semestre attorno a una serie di temi al tema degli asset a come già sviluppare quindi il mercato potenziale al tema della misurazione dell'impatto sociale che è un tema chiave cioè se parliamo di investimenti ad impatto sociale dobbiamo essere in grado di misurare l'impatto che produciamo e quindi c'è un grosso dibattito a livello internazionale e anche a livello nazionale per definire i framework per definire le metodologie di misurazione dell'impatto sociale che è diciamo un fatto tutt'altro che scontato un tema legato alla cooperazione internazionale e come diciamo il nuovo ciclo della cooperazione si deve interfacciare con gli investimenti ad impatto sociale ed un focus molto forte legato all'impresa sociale l'impresa sociale in Italia oggi è diciamo sicuramente un tessuto molto vivo allo stesso tempo però diciamo questa capacità di rispondere ai bisogni collettivi ha bisogno e necessita di risorse che siano in grado di favorire processi di innovazione sociale cioè in un momento in cui la spesa pubblica e tutto il sistema di welfare è messo a dura prova dalle politiche di austerità la capacità di innovazione del terzo settore dentro un quadro di sussidialità che si diceva nel panel precedente è fondamentale e in questo senso il ruolo di una finanza d'impatto può essere veramente un ruolo diciamo centrale cioè nel sostenere questi processi di innovazione delle imprese sociali quindi questo focus molto forte sull'impresa sociale e su come possiamo oggi diciamo rendere l'impresa sociale un attore che è in grado di ricevere gli investimenti della finanza d'impatto con la struttura giuridica dell'impresa sociale italiana oggi è sostanzialmente impossibile o molto difficile pensare che un fondo d'impatto sociale possa diciamo allocare del capitale all'interno dell'impresa sociale abbiamo individuato una serie diciamo di linee guida che secondo noi dovrebbero essere l'intelaiatura di una ipotesi di riforma della legge sull'impresa sociale per far sì che effettivamente diciamo le imprese sociali possano essere possano ricevere parte di questi capitali impact che si stanno muovendo a livello planetario ma anche a livello europeo la comunità europea ha istituito uno strumento per sviluppare uno strumento diciamo un fondo per sviluppare la finanza d'impatto e quindi se noi non abbiamo diciamo imprese sociali che sono in grado di aprirsi agli investimenti probabilmente perderemo delle occasioni notevoli diciamo di crescita del settore nei prossimi anni quindi c'è tutta una riflessione che sta avvenendo su quale dovrebbe essere le leve da toccare in una in una ipotesi in una prospettiva di riforma della legge che peraltro mi sembra che il governo abbia pienamente recepito il sottosegretario Bobba che si occupa di questo tema e si è occupato di questo tema anche diciamo nella sua veste precedente alla Camera aveva presentato una proposta di legge che purtroppo non è stata approvata ma sta lavorando ad una ipotesi di riforma che è molto vicina diciamo alle linee guida che sono state disegnate all'interno all'interno del lavoro della task force insomma questo grande lavoro sostanzialmente all'obiettivo di fare in modo che le imprese sociali possano diciamo diventare e accogliere il flusso di capitali degli investimenti ad impatto sociale e se pensiamo al tema insomma dell'ambiente dell'agricoltura di come effettivamente le imprese sociali che operano in questo settore e alle imprese sociali che operano in questo settore e andiamo a vedere i flussi degli investimenti ad impatto sociale a livello internazionale ci sono una serie di fondi che sono sostanzialmente specializzati negli investimenti in imprese sociali che operano nel settore dell'agricoltura penso ad esempio a uno dei fondi più interessanti come modello di intervento che è Root Capital che opera fondamentalmente nel sostenere le esperienze di imprese sociali che operano nel settore agricolo soprattutto diciamo nelle produzioni organiche nelle produzioni biologiche in America Latina ma anche in Africa che sostanzialmente ha consentito a tutta una serie di soggetti di imprenditoria diffusa di svilupparsi di accedere al credito che è uno dei grandi temi diciamo della debolezza strutturale delle imprese sociali che operano in contesti rurali nel sud del mondo diciamo in questo senso c'è l'esperienza sicuramente interessante di Root Capital l'esperienza di Responsibility che opera più diciamo in Africa e all'interno del GIN che è l'organizzazione che raccoglie i fondi di investimento di impatto sociale si è costituita una diciamo un sottogruppo che lavora proprio sul tema dello sviluppo del settore agricolo diciamo di quali sono e ci sono gran parte di questi operatori fanno parte di questo sottogruppo che sta lavorando che sta lavorando attorno al tema degli investimenti di impatto nel settore nel settore agricolo pensiamo che a livello mondiale la popolazione impiegata in attività agricola è enorme soprattutto diciamo alla base della piramide che è il settore su cui interviene ed agiscono gli investimenti di impatto sociale quindi su questo ci sono a livello internazionale potenziali di crescita straordinari così come io penso ci siano un potenziale di crescita straordinario sull'imprenditorialità sociale in agricoltura in Italia l'agricoltura probabilmente è stata uno dei settori in cui che ha risentito meno della crisi economica diciamo è stato quasi un settore anticirico rispetto diciamo agli altri settori tradizionali dell'occupazione non solo diciamo ha mantenuto parzialmente mantenuto il numero di occupati ma ha visto anche una crescita di occupati soprattutto dei giovani che mi sembra un dato estremamente interessante a livello di imprese sociali le imprese sociali che operano nel settore agricolo sono relativamente poche su 14.000 abbiamo circa secondo diciamo una una indagine dell'Eurix circa 400 imprese sociali che operano in questo ambito ma io credo che il potenziale di crescita sia molto grande e quindi diciamo quasi mi auguro che tutto il lavoro che si sta facendo adesso con la task force e in parte anche le aperture del governo e mi riferisco in particolare al fondo per le imprese sociali che è stato presentato dal presidente del consiglio con dotazione ipotetica di 500 milioni di euro possa sicuramente essere un fattore determinante per sviluppare gli investimenti di impatto delle imprese sociali nel nostro paese grazie allora il concetto della sostenibilità delle imprese possiamo dire che è il core business di etica che è società di gestione del risparmio quindi chiamerei Alessandra Viscovi che viene qui vi mostrerà delle slide grazie e grazie davvero anche per l'invito grazie anche a Davide Dalmaso che ha fatto un'introduzione molto importante su quella che è oggi la finanza sostenibile siamo qui per dimostrare che è possibile cambiare quindi siamo un esempio di una ormai non più ma siamo stati una start up assolutamente innovativa nel mondo della finanza e cercherò di spiegare brevemente su quali basi abbiamo voluto porre il cambiamento innanzitutto finanza etica finanza sostenibile non vuol dire fare beneficenza ma vuol dire imparare a scegliere bene dove allocare i propri risparmi etica SGR nasce quindi per contrastare una modalità di fare finanza che era la finanza ed è tuttora la finanza speculativa la finanza che non guarda agli impatti sociali e ambientali ma è una finanza meramente speculativa e quindi partendo un po' dalle premesse di questa giornata mondiale per l'ambiente riprendo il filone di cui si citava prima si diceva lo sviluppo industriale ha creato disastri ecologici e cambiamenti climatici senza precedenti ed è subentrata la economia casinò e io dico la finanza casinò che scommette senza assumersi responsabilità proprio questo è il punto la responsabilità allora che responsabilità ha un gestore finanziario nel momento in cui appunto gestisce i soldi generalmente di altri la responsabilità che attualmente la finanza tradizionale si dà è quella esclusivamente del rendimento etica SGR punta a far capire che questo non basta la vera responsabilità del gestore deve andare molto oltre e in particolare adesso scusate cerco di capire le freccette ok è quella proprio di sensibilizzare il pubblico gli operatori finanziari nei confronti della responsabilità sociale di impresa e fare delle scelte che puntino proprio ad analizzare gli emittenti le aziende attraverso un occhio diverso quindi non guardo esclusivamente il bilancio finanziario dell'impresa per fare delle scelte ma guardo a quelle che sono le rendicontazioni sociali e ambientali di questa impresa guardo cioè la parte che adesso sta crescendo in maniera veramente importante è appena uscita anche una direttiva della comunità europea che imporrà a oltre 6.000 aziende europee una rendicontazione socioambientale perché per me è più importante questo aspetto poi ovviamente c'è anche l'aspetto finanziario che non devo assolutamente trascurare perché come dicevamo prima la finanza non è fare beneficenza ma è dare rendimenti interessanti e equi ai nostri sottoscrittori la crisi economica quindi per noi ha rappresentato diciamo una ha favorito la nostra crescita ha favorito la nostra crescita che soprattutto siamo nati nel 2000 nel 2006 l'azienda è andata inutile quindi è riuscita a recuperare quella sostenibilità economica che è essenziale in tutti coloro che si propongono di lanciare delle iniziative quindi non si può pensare a una sussidiarietà continua ci sono stati degli investitori intelligenti e lungimiranti che hanno scommesso sulla nostra azienda ma poi a un certo punto dopo cinque anni questi investitori giustamente hanno visto il frutto del loro investimento perché siamo riusciti a riportare inutile l'azienda e da adesso ovviamente da quel momento dal 2006 l'azienda è sempre stata inutile e continua a fare profitto questo lo dico perché è un punto essenziale quando si parla appunto di start up quindi quando poter avere anche diciamo una visione che porti ad un certo punto ad arrivare ad un ritorno economico importante un'altra cosa importante noi come facciamo le nostre scelte le facciamo proprio applicando come vi dicevo una rigorosa selezione basata sull'analisi delle aziende e basata quindi su criteri socioambientali questi processi di analisi e di investimento sono basati soprattutto sull'indicatore sociali e ambientali abbiamo al nostro interno un team che è cresciuto con noi adesso sono quattro analisti specializzati sulle tematiche della governance del buon governo degli impatti sociali e ambientali siamo un'azienda italiana fatta di soci italiani e che punta anche al mercato italiano ovviamente dialoghiamo direttamente con le aziende quotate e vediamo nello specifico quali sono i criteri che ci siamo dati abbiamo detto che importante è saper scegliere darsi quindi una metodologia e per noi adesso ho evidenziato in verde quelli che sono i criteri che più attengono all'ambiente non entrano nei nostri investimenti imprese che violano gravemente la convenzione internazionale sulla biodiversità e sull'inquinamento ambientale non entrano aziende che possiedono o gestiscono centrali nucleari non entrano aziende che modificano che appunto in maniera importante quindi tutte le aziende di OGM coloro che producono pesticidi coloro che utilizzano commercializzano legname proveniente da foreste protette e quindi abbiamo tutta una serie di criteri che noi chiamiamo negativi quindi di esclusione che fanno da filtro per i nostri investimenti questo per noi è una modalità molto concreta per far capire verso che cosa siamo orientati il nostro comitato etico che è un organismo indipendente che ovviamente valuta tutte quelle che sono le imprese che poi nelle quali andiamo ad investire ha addirittura sospeso interi settori merceologici come il settore minerario il settore del petrolifero per gli impatti ambientali e il settore finanziario quindi potete capire come le scelte direi veramente coraggiosi che sono state portate avanti finora da Etica SGR hanno voluto dare anche una linea guida a quello che è il mondo della finanza in generale quindi far capire che è possibile cambiare è possibile cambiare in maniera importante con un'attenzione particolare anche al ritorno degli investimenti dopo questa valutazione così diciamo impegnativa da un punto di vista di criteri negativi abbiamo invece una valutazione positiva e quindi di scelta delle migliori aziende che entreranno a far parte del nostro target investibile che sono anche qui abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando 65 indicatori e in relazione all'ambiente quindi andiamo a vedere quelle aziende che utilizzano e che usano e fanno delle certificazioni ambientali dell'uso efficiente dell'energia i prodotti con impatto positivo sull'ambiente se fanno o meno una rendicontazione ambientale questo è oggetto di dialogo continuo con le imprese soprattutto con quelle italiane e spingiamo le aziende tramite appunto l'azionariato attivo a rendicontare i propri stakeholder proprio su queste tematiche l'azionariato attivo vi diceva una pratica che abbiamo introdotto in Italia da alcuni anni dal 2005 significa proprio un dialogo un dialogo con le imprese affinché queste imprese essendo noi investitori diretti di queste imprese rendi contino su queste tematiche così importanti nello stesso tempo è anche un aiuto all'impresa perché diamo dei segnali di attenzione su tematiche che a volte gli azionisti di cui non tengono conto Etica SGR ovviamente per fare questo appartiene e fa parte di network importanti come ICCR che è Interface Center for Corporate Responsibility e il Carbon Disclosure Project un altro progetto molto importante e diciamo tiene conto nel dialogo anche di altri fattori ambientali importanti come una gestione responsabile dei rifiuti una gestione delle risorse idriche stiamo attenti anche alle remunerazioni dei manager e in particolare chiediamo che queste siano anche legate a indicatori socio-ambientali non basta abbiamo attenzione alle piccole imprese alle imprese che nascono e in particolare sul territorio italiano abbiamo creato un fondo di microcredito un fondo di garanzia che viene utilizzato da Banca Etica per erogare progetti di microcredito in Italia questo fondo è alimentato attraverso una devoluzione volontaria dei sottoscrittori dei nostri fondi comuni un euro ogni mille viene versato a questo fondo questo fondo ora è ammonta circa un milione di euro e in questi 14 anni sono stati praticamente finanziate oltre 251 iniziative mi piace dire che oltre il 70% di queste iniziative è di carattere diciamo microcredito imprenditoriale e capitalizzazione di cooperative quindi non esclusivamente socio-assistenziale il microcredito socio-assistenziale pesa per il 31% vorrei chiudere con una attività con una esperienza simpatica che coniuga un po' quello che diceva prima il Dottor Ronchi cioè cultura natura e manifattura in Italia appunto l'esempio di un'azienda Biosicili una cooperativa siciliana che lavora alla ricerca di nuovi canali per la commercializzazione e lo sviluppo di produzioni biologiche locali è nata nel 2008 dalla fantasia e dall'idea di tre imprenditori tre giovani ragazzi laureati in economia che non trovavano banche disposte a finanziarli ebbene Banca Etica ha dato loro un microcredito sostenuto dal nostro fondo di garanzia di 30.000 euro e grazie a questo fondo questi ragazzi hanno iniziato un'attività che tuttora continua ed è proprio esportazione consulenza multimediale ai produttori e turismo responsabile quindi è un'iniziativa concreta con la quale appunto dove ovviamente l'aspetto etico deriva dal fatto che aderiscono a Dio Pizzo e si basa ovviamente su principi etici anche nella scelta dei fornitori e sull'attività della bioagricoltura concludendo vorrei che appunto rimanesse abbastanza chiaro questo concetto è possibile cambiare si può cambiare noi ne siamo un esempio ovviamente non dobbiamo aspettare che siano i grandi investitori a farlo ma io credo che la finanza responsabile non è più una sfida pioneristica ma una realtà concreta e un'opportunità ciascuno di noi con le sue scelte quotidiane anche di risparmio può fare la differenza per cui quello che io mi auguro è davvero che anche attraverso un esempio come quello appunto di cui oggi abbiamo parlato in questa giornata mondiale dell'ambiente si riesca a capire che la differenza la possiamo fare noi ciascuno di noi attraverso proprio le proprie scelte i propri gesti quotidiani ripeto anche di risparmio grazie allora passiamo ad un altro caso concreto un'altra esperienza che viene dalla Calabria e a presentarcela è Vincenzo Linarello che è presidente del gruppo cooperativo Goel grazie 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 dell'invito provo un pochino a entrare direttamente nel merito della nostra esperienza collegandola un pochino col tema di questa tavola rotonda cioè le imprese sociali e familiali che costruiscono nuove opportunità e quello che abbiamo provato a fare in questi anni noi nasciamo undici anni fa nella Locride provincia di Reggio Calabria un territorio molto difficile la disoccupazione giovanile tocca punte del 75% e ahimè è uno dei posti da cui si dirama in Italia e nel mondo questo fenomeno criminale che è l'andrangheta e abbiamo avviato questo percorso costituendo nel 2003 il Goel poi diventato gruppo cooperativo Goel un gruppo che nasce da un gruppo di imprese sociali di cooperative sociali che decidono di produrre cambiamento e riscatto in una regione difficile come la Calabria di fronte a questi ostacoli attraverso un metodo particolare da un lato la proposta di percorsi e di idee di cambiamento di idee alternative di cambiamento ma nello stesso tempo immediatamente la rappresentazione di queste idee dentro alcune attività di impresa sociale abbiamo agito sicuramente anche su un piano puramente sociale nel senso che siamo intervenuti in tutta una serie di problemi grossi il tema per esempio dei minori a rischio da cui l'andrangheta pesca per allevare i propri soldati siamo intervenuti nell'ambito anche del problema della psichiatria che è un problema anche drammatico nel nostro territorio abbiamo diversi progetti di accoglienza di migranti nordafricani che non solo mirano a sottrarre diciamo l'influenza dell'andrangheta appunto nei flussi migratori ma tentano di dimostrare al territorio che l'immigrazione anche l'immigrazione nordafricana può rappresentare una grande opportunità di sviluppo per il territorio stesso e piano piano stiamo tentando di dimostrarlo accanto a questo però abbiamo sviluppato tutta una serie di attività che cercano anche di affermare in maniera forte che l'etica può diventare un vantaggio competitivo nello sviluppo imprenditoriale di imprese soprattutto in contesti marginali come quello della Locrida e come quello della Calabria l'abbiamo fatto mettendo su diverse iniziative abbiamo i viaggi del Goel che è un tour operator specializzato in turismo responsabile quindi inseguiamo un modello di sviluppo turistico diverso da quello che purtroppo inseguono in Calabria che ricalca altre altre filosofie noi proponiamo pacchetti di turismo ecologico ambientale turismo enogastronomico biologico turismo sociale e piano piano stiamo riuscendo ad attirare flussi anche che vengono fuori dall'Italia abbiamo sviluppato una cooperativa agricola che aggrega le aziende agricole vittime dell'andrangheta noi i nostri amici di Libera lavorano sui terreni confiscati noi invece abbiamo seguito questo percorso di aggregare le aziende vittime le aziende colpite dall'andrangheta perché è importante affermare culturalmente che chi fa la scelta giusta chi dice no all'andrangheta non è destinato ad essere un perdente ma anzi si apre delle opportunità importanti perché la sua scelta etica oggi incontra una fetta di mercato molto favorevolmente orientata e quindi abbiamo messo su questa cooperativa oggi abbiamo una trentina circa 30 aziende agricole o vittime di indrangheta o che si contrappongono apertamente all'andrangheta che producono agrumi produciamo intorno a 12 mila quintali di agrumi tra 12 e 15 mila litri di olio di oliva biologico stiamo aggiungendo anche altre referenze e abbiamo tentato di affrontare una delle cause che ha scatenato lo citava stamattina qualcuno la rivolta dei migranti in Rosarno la rivolta dei migranti in Rosarno ha diverse cause ma una di queste è il mercato degli agrumi a pezzi oggi per un cartello di grossisti per delle filiere troppo lunghe le arance nella piana di Gioia Tauro nella Locrida arrivano ad essere pagate a 5 centesimi al chilo con 5 centesimi al chilo non solo viene sfruttato l'operaio ma non si garantisce neanche dallo stesso sfruttamento lo stesso proprietario piccolo proprietario piccolo produttore abbiamo costruito una filiera saltando i passaggi inutili valorizzando al massimo l'apporto dei soci insomma lavorando bene sulla filiera siamo riusciti e con un marchio a forte connotazione etica come Goel Bio siamo riusciti a garantire ai nostri produttori soci un prezzo minimo per le arance biologiche non inferiore a 40 centesimi al chilo quindi 8 volte più di quello che garantisce il mercato per contro controlliamo tutta la filiera e se uno dei nostri produttori lo becchiamo a utilizzare anche solo un operaio non messo in regola non solo c'è l'espulsione dalla filiera dal sistema dalla cooperativa ma ci sono multe per santissime per contratto che vengono combinate oltre alla sanzione che dà lo Stato abbiamo recuperato l'antica e prestigiosa tradizione della tessitura a mano calabrese ricostruendo i telai andando a ripescare tutta la tradizione grecanica e bizantina della tessitura a mano in Calabria e per dare uno sbocco a questo prodotto che sicuramente non è competitivo perché per fare un metro di stoffa tessuto a mano ci si impiega da 3 a 6 ore di lavoro abbiamo pensato che questa stoffa preziosa doveva finire in abiti preziosi e quindi ci siamo inventati il primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia che è Cangiari siamo andati a Milano ci siamo fatti patrocinare dalla Camera Nazionale della Moda Italiana abbiamo preso un bene confiscato all'Andrangheta a Milano e l'abbiamo trasformato in showroom e abbiamo partecipato alle settimane della moda adesso stiamo cominciando a esportare siamo presenti in diverse boutique di fascia alta in Italia e cominciamo ad esserlo anche all'estero questo tra l'altro è stato reso possibile perché è una vera e propria operazione industriale anche grazie all'apporto al finanziamento al sostegno che abbiamo ricevuto da Fondazione Vodafone nella parte iniziale di questo percorso e di questo cammino infine abbiamo costruito una rete in tutta Italia che si chiama Alleanza con la Calabria per aiutare le regioni che oggi sono sotto assedio da parte dell'infiltrazione dell'Andrangheta a difendersi da un fenomeno che probabilmente questi territori non conoscono e che noi invece conosciamo bene la rete dell'Alleanza con la Calabria che lotta contro l'infiltrazione dell'Andrangheta anche al nord oggi è composta da 750 enti e organizzazioni tutto questo dentro un sistema che ha sempre portato avanti il pensiero e la rappresentazione pratica di questa idea di cambiamento dentro un'attività di impresa sociale cosa ci siamo resi conto vi do intanto alcuni dati dati di fine 2012 Goel è un gruppo di una decina di imprese sociali un valore aggregato della produzione intorno ai 5 milioni di euro 100 lavoratori dipendenti stabili più un numero variabile di lavoratori esterni non sono grandi numeri ma nella Locride è una delle prime imprese private non imprese sociali come numero di addetti questo che cosa rappresenta concretamente andando al tema di oggi che l'etica in un mercato in grande evoluzione ma in grande crescita di consapevolezza come quella attuale può rappresentare un vantaggio competitivo serio soprattutto per quelle aree marginali del paese che fanno fatica e anche a livello internazionale che fanno fatica a entrare nel mercato con i canoni classici che ormai sono anche abbastanza obsoleti rispetto a questo l'idea di un capitale fiduciario fondato sulla reputazione sulle reti relazionali l'idea di un'etica che non fa parte solo del piano marketing ma che viene costruita dentro i processi produttivi dentro il prodotto e il servizio che l'impresa offre a nostro avviso da grandi opportunità e grandi chance e infatti tra l'altro stiamo facendo partire un ramo di goel di consulenza alle imprese perché vorremmo dimostrare che questo non è un caso solo nostro ma è possibile fare aiutare anche le imprese profit a sviluppare l'etica come vantaggio competitivo qual è il lato debole oggi dentro l'altro tema grosso quello della finanza di cui si discuteva una realtà come goel è cresciuta così tanto che oggi ha bisogno di patrimonializzazione e ha bisogno di capitali di rischio oggi io non riesco a far crescere cangiare quanto potrei perché ho bisogno di un piano industriale e ho bisogno di capitali di rischio seri altrettanto seri di quello che richiede l'impresa profit che si confronta con un mercato così complicato come quello della moda tutto questo oggi malgrado c'è una grande simpatia nei nostri confronti nei confronti della nostra esperienza spaventa gli investitori classici gli uomini perché poi la finanza non esiste ci siamo sempre le persone ricordiamo non esiste il mercato non esiste la finanza ci sono le persone che agiscono nel mercato ci sono le persone che agiscono nella finanza oggi le persone che agiscono nel mondo della finanza non hanno gli strumenti per riuscire a valutare fiutano l'opportunità dell'impresa sociale intuiscono che è qualcosa di nuovo di importante da seguire ma non hanno la capacità e gli strumenti di fare delle valutazioni che li tranquillizzano dentro questa operazione io ho incontrato tanti investitori tradizionali che mi ponevano le solite domande ma qual è il rendimento ma cosa vuoi che sia il rendimento in un'impresa sociale in cui l'utile si trasforma in bene comune è minimo quindi per forza devono essere degli investimenti come li chiamate voi pazienti di capitali pazienti e nello stesso tempo anche che richiedono una remunerazione ridotta perché ovviamente più basso è l'utile più il tempo di rientro si allunga l'altro aspetto è ma quanto conterò io nei voti di una cooperativa sociale conterai un voto non potrai contare più di un voto è una comunità che si sta chiedendo questo investimento anche questo è un motivo di paura e di incertezza però dall'altro lato sappiamo molto bene quanto oggi se andassimo a misurare anche statisticamente il tasso di rischio degli investimenti tradizionali nell'impresa profit io non so se ne usciamo meglio in termini di sicurezza e in termini di redditività allora il ragionamento è quello di creare un sistema che sia capace di leggere questo fenomeno e di aiutarlo a crescere fenomeno che non dobbiamo sopravvalutare perché ve lo dice uno che è stato anche ai vertici di un'organizzazione di cooperative sociali italiane e tutt'altro che maturo le cooperative sociali che sono la forma più compiuta oggi in Italia di impresa sociale vengono da un mondo di gestione di servizi sociosanitari e sociali che è un mondo che di solito riceve 100.000 euro dal pubblico e spende 100.000 euro dal pubblico quindi non è un mondo abituato a fare dei piani industriali non è un mondo abituato a fare dei piani di sviluppo è un mondo che lo sta imparando adesso un po' perché ha intuito che è una prospettiva importante un po' perché la crisi del welfare costringe le cooperative sociali a rinnovarsi ma è tutt'altro che maturo infine e chiudo c'è tutto il tema del patrimonio dello Stato e consentitemi venendo dalla Calabria ma non solo nella Calabria anche dei beni confiscati e delle imprese confiscate su cui bisogna veramente aprire un tema molto serio e importante oggi i beni confiscati potrebbero rappresentare veramente un grande ausilio anche sui temi della patrimonializzazione dell'impresa sociale salvo che il modello tradizionale prevede un comodato quindi il patrimonio assolutamente scompare quanto sarebbe interessante che lo Stato apportasse entrasse nel capitale di un'impresa sociale col bene confiscato invece che fare dei contratti di comodato quindi robustendo anche patrimonialmente l'impresa sociale e nello stesso tempo consentitemi di dire è stato creato un sistema così farraginoso che tentando di migliorarlo è diventato ancora più farraginoso io oggi nel mio territorio faccio fatica semplicemente a sapere quali beni confiscati ci sono è uno scandalo è impossibile oggi conoscere non sapere quali perché quello andate nel sito dell'agenzia e vi compare l'elenco ma se appena appena vi chiedete quel terreno che cos'è seminativo è coltivato a ulivetti nessuno ve lo sa dire dovete andarlo a chiedere al comune sperduto che se vuole vi risponde noi abbiamo mandato decine di lettere allora questo al di là del racconto specifico questi sono dei temi molto seri perché uno stato che ha sempre maggiore carenza di risorse e che ha un patrimonio che tra l'altro se non viene assegnato e messo in produzione si impoverisce non può consentirsi questi lussi assolutamente quindi da parte nostra da un lato insomma c'è una grande disponibilità a ragionare a partire dalla nostra esperienza ma anche a mettere a disposizione caso mai sia Airday sia altri volessero concretamente approfondire queste tematiche qui su alcune piste molto concrete e propositive grazie allora di fronte a questa esperienza abbastanza difficile però insomma che sta portando delle soddisfazioni di successo occorre guardare anche al futuro quindi annuncio l'intervento conclusivo del direttore scientifico di Airday Italia Roberta Caffarotti buongiorno a tutti abbiamo ascoltato diciamo due voci diverse il mondo della finanza responsabile e sostenibile dall'altra parte delle esperienze particolarmente concrete in particolare noi ci chiamiamo Airday Italia quindi dovremmo parlare di ambiente fondamentalmente e qua invece su questo tavolo diciamo più pratico abbiamo in realtà parlato di innovazione sociale e di innovazione finanziaria perché in realtà nel famoso triangolo dello sviluppo sostenibile ambiente società ed economia pensiamo che le questioni ambientali vadano affrontate proprio da questi due punti da questi due punti nevralgici vi dico ad esempio che i due grandi problemi che i grandi investitori investitori che fanno investimenti d'impatto giusto appunto identificano le grandi sfide i grandi freni allo sviluppo degli investimenti d'impatto sono fondamentalmente due si ha difficoltà a trovare soggetti sui quali investire quindi c'è proprio un problema diciamo di tessuto imprenditoriale sul quale poter effettuare investimenti d'impatto la seconda questione fondamentale è che coloro che già hanno nel proprio DNA il desiderio di investire e di creare valore per l'ambiente e per la società hanno timore di perdite di capitali nella scala diciamo naturale di valutazione dei rischi legati ai propri investimenti rispetto a questo fondamentalmente ci vengono in mente che le due grandi le due grandi soluzioni alle questioni sono uno lo sviluppo di un terreno fertile in cui l'impresa sociale è un soggetto che ci aiuta che ci ispira Goel non è solo un'impresa sociale è un territorio cioè quella parte di territorio positivo che è in grado di inventare e di guardare al futuro andrebbero trovate tanti altri casi ispiratori come quello di Goel in realtà molti già ne abbiamo e molti speriamo che ne verranno nel futuro pensiamo che la riforma del terzo settore che è in discussione in questi giorni o meglio è in consultazione popolare sia un elemento importante forse non risolutivo ma è uno di quei semi che può produrre sviluppo sostenibile nel futuro e soprattutto storie positive l'altro grande problema invece è trovare capitali che siano in grado di catalizzare energie positive quindi dei fondi benvenga il fondo per le imprese sociali promesso dal governo Renzi benvengano delle sperimentazioni anche in questo senso non tanto sperimentazioni della serie proviamo e vediamo poi che cosa succede ma trovare degli investitori istituzionali che siano in grado di dare fiducia a dei territori e intorno a questi è facile immaginare che si possa creare un ecosistema positivo capace di attrarre altri investimenti a cascata quindi da una parte va costruito un ecosistema di imprese sociali di imprese ibride quindi di imprese che si muovano tra il profit e il no profit che sappiano tirar fuori il meglio di un'esperienza e dell'altra e dall'altra parte trovare dei soggetti in questo momento coraggiosi perché uscirebbero fuori da un coro che va in senso contrario legati al mondo finanziario quindi investitori istituzionali oppure le istituzioni che attraverso dei fondi ad hoc per le imprese sociali oppure i fondi i fondi che derivano dai beni confiscati dai beni confiscati alla mafia quindi capitali giacenti capitali che non producono ricchezza convertirli su un tema così avanzato di sviluppo e di sperimentazione perché ovviamente siamo ancora in una fase di sperimentazione attendiamo dei segnali e per questo ne discuteremo dentro il forum Terra Italia e in tutte le iniziative che dal forum Terra Italia nasceranno proprio nei diversi territori ragioneremo in Locride ragioneremo in Alto Adige ragioneremo in tutti quei territori che avranno desiderio di riflettere sul proprio futuro sul futuro dell'Italia e anche sul futuro del pianeta con questo ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questo convegno ma in particolare sempre per Erda Italia crede fortemente al tema dell'innovazione sociale per questo abbiamo fatto una mostra fotografica insieme con Shoe for Change l'abbiamo chiamata Cambiamo Clima che suona diciamo bizzarro perché il clima non dovrebbe cambiare o meglio dovrebbe seguire il suo corso naturale ma noi ci riferiamo non al clima meteorologico noi ci riferiamo al clima sociale abbiamo cercato di raccontare insieme a Shoe for Change 23 storie e siamo oggi insieme con il territorio e con il comune di Roma ad ospitare queste 23 storie meravigliose ma non dico altro perché ci saranno persone che lo racconteranno decisamente meglio di me grazie grazie a Roberta Caffarotti direttore scientifico di Heart Day Italia tocca a me questa parte celebrativa l'ultima parte di questo interessantissimo incontro di oggi qui alla FAO siamo qui come tutti ben sapete per la giornata mondiale dell'ambiente una giornata voluta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ben 42 anni fa ma si festeggia oggi la 41esima edizione perché appunto nel 72 venne istituita ma celebrata nel 73 ovvero l'anno successivo una giornata nella quale anche singolarmente bisogna cioè ognuno di noi dovrebbe prestare attenzione alle buone pratiche perché tutti noi possiamo contribuire anche con piccoli ma significativi gesti a proteggere e a migliorare il nostro pianeta in queste ore anche i grandi della Terra hanno come dire testimoniato cosa faranno per il futuro tipo Bill Gates ha deciso di mettere su una fondazione che si occuperà proprio di questo tema la Michelle Obama addirittura sulla stampa ha rilasciato una lunghissima intervista dichiarando appunto il suo impegno per un'alimentazione sana e per uno sviluppo sostenibile ricordiamo lei che alla Casa Bianca ha fatto il suo piccolo orto quindi piccoli gesti che possono sicuramente migliorare l'ambiente grazie comunque per aver celebrato con noi e assistito con noi a questo interessante dibattito in un incontro diciamo tra persone altamente formate che ci hanno illustrato anche come cambierà e quali sono i sistemi economici che ci daranno un migliore ambiente un migliore pianeta dove potremmo noi vivere tutti in armonia si spera ma per entrare comunque in questo momento celebrativo perché dopo aver discusso e aver sentito tante idee davvero interessanti io chiamo qui accanto a me il presidente di Heart Day Italia Pierluigi Sassi ecco quest'ultima parte breve la vogliamo dedicare a compiere un piccolo gesto simbolico nei confronti della città di Roma con gli amici di Shoot for Change il blog guidato da Mendola che poi ci racconterà un po' questa bellissima esperienza abbiamo realizzato una mostra fotografica come si diceva in cui abbiamo raccontato l'impegno quotidiano di alcuni personaggi diciamo che abbiamo voluto definire eroi magari eroi non consapevoli in alcuni casi in altri invece consapevoli che però ogni giorno si confrontano con il proprio sistema sociale con il proprio ecosistema nel tentativo di portarli il giusto rispetto di assecondarne il decorso naturale ecco queste storie di eroi che volevano essere emozionali e che volevano essere anche capaci di contaminare ci hanno aiutato a celebrare la giornata mondiale della terra lo scorso 22 aprile garantendoci anche dei risultati media straordinari abbiamo avuto un'attenzione da parte di tutti bellissima oltre ad avere un nostro programma televisivo quindi insomma è stata una bella esperienza e oggi questa mostra la vogliamo donare alle periferie romane un'idea nata nell'incontro con l'assessorato alle periferie del comune di Roma in particolare l'idea bellissima di Luca Attanasio che ce l'ha proposta e che ringraziamo e che invitiamo anche lui ad essere con noi vieni vieni e l'abbiamo voluta regalare alla città appunto dicevo prima esponendola al maxi in uno dei musei più importanti della nostra capitale e poi portandola per le strade della città per cui questa mostra è stata ospitata nel piazzale alto del Gianicolo uno dei punti più belli di Roma e quindi è stata lì anche esposta ai rischi del vandalismo e dei cittadini che invece l'hanno rispettata e questa è stata un bellissimo una bellissima constatazione e oggi proprio in questa giornata insieme anche all'assessorato per l'ambiente che ha collaborato a questa iniziativa con l'assessore Sella Marino che invito anche lei ad essere con noi e la vogliamo donare a un centro culturale delle periferie romane che possa essere veicolo permanente di queste storie poi dopo questa mostra potrà essere prelevata da quel centro e essere portata anche altrove laddove delle istituzioni delle aziende o chiunque voglia sostenere i costi di questo trasporto ci aiutino appunto allargarne il più possibile la diffusione un ultimo sforzo che abbiamo fatto è stato quello di tradurre queste storie e di farne un documento internazionale che attraverso il Tantam della rete attraverso gli amici di Connect4Climate che oggi abbiamo conosciuto ma anche attraverso la FAO attraverso l'Airday Network attraverso tutti gli amici anche e soprattutto di Shoot4Change che è un blog internazionale vorremmo che questa cosa diventasse vitale diventasse contaminasse un po' un po' tutti cercando di creare quelle sensazioni utili a rispettare l'ambiente grazie sì allora chiediamo visto che Amendola è uno dei protagonisti degli scatti degli importanti scatti della mostra giusto così per far conoscere il nostro pubblico gli eroi della terra chi sono stati? gli eroi della terra siamo noi noi abbiamo voluto dimostrare con questa mostra che non serve tanto per fare tanto molto spesso serve poco basta poco per fare tanto normalmente il binomio grande fotografo è sempre con grande storia raccontata noi con d'accordo con gli amici di Airday Italia con Pierluigi e gli altri amici Pippo Norati tutti quelli che hanno curato la mostra fotografia abbiamo deciso invece di ribaltare questo paradigma e assegnare a grandi fotografi e quantomeno a fotografi di grandissima qualità delle piccole grandi storie locali per dimostrare che sono le piccole storie alla fine che cambiano il mondo e anche per dimostrare alla gente che basta poco per raccontarle non c'è niente di peggio di una bella storia non raccontata come non c'è niente di peggio che una bellissima mostra non vista ed è per questa la logica questa è la logica che ci ha spinto felicemente a donare permanentemente la mostra perché deve essere vista non c'è niente di più triste di una mostra che nasce a grandissimo successo nazionale e internazionale e poi viene chiusa perché normalmente voi sapete chi frequenta le mostre sa che le mostre si realizzano nel momento in cui viene emanato il comunicato stampa si fa l'innaugurazione il vernissage poi vanno in discesa verso la fine e già si comincia a pensare a disinstallarla invece questa è una mostra che deve essere mantenuta viva vivace e il racconto deve essere un racconto collettivo che deve continuare infatti noi chiediamo a tutti quanti di continuare a raccontare e segnalarci queste piccole storie se mi consente un attimo noi abbiamo alcuni protagonisti di queste storie si li conosceremo a breve sono i ragazzi di Barikamà che è una piccola impresa sociale una cooperativa sociale che fa del micro reddito rivolto ed è gestita fondata e gestita dai ragazzi africani è una storia di integrazione sociale di inserimento di imprenditorialità di cooperativa sociale e di sicurezza alimentare loro fanno uno yogurt buonissimo straordinario senza conservanti senza zuccheri con latte biologico senza niente c'è neanche lo yogurt adesso lo dovremmo assaggiare perché io sono molto curiosa sono amante dello yogurt chiamerò uno dei ragazzi di Barikamà con noi come ho detto anche in chiusura del Maxi una storia non è nulla senza qualcuno che la racconti ma un racconta storie è nulla senza nessuno che lo ascolta quindi grazie davvero a tutti quanti grazie a voi ancora qui alla mia sinistra come diceva appunto Pierluigi ci ha raggiunto l'assessore all'ambiente Stella Marino assessore allora oggi giornata completamente dedicata all'ambiente quale impegno si prende l'assessorato all'ambiente di Roma Capitale sì intanto io rappresento Roma Capitale e in parte rappresentiamo anche il collega Masini che ha costruito una parte di questo progetto e che oggi non è potuto essere essere presente l'impegno è stato non da oggi diciamo dal primo giorno dell'insediamento perché le questioni ambientali le questioni più in generale di sostenibilità di questa città scontano ancora un ritardo notevole uno su tutti tanto diciamo tutti i giorni sui giornali è il tema dei rifiuti non vi tedio ulteriormente con questa problematica ma è evidente che per cambiare un intero settore quando quel settore invece è ereditato come un settore molto impattante noi abbiamo bisogno di un po' di tempo ma bisogna iniziare a fare delle azioni subito ed è quello che questa amministrazione ha iniziato a fare fra l'altro molte delle tematiche ambientali sono delle tematiche sociotecniche hanno una grossa complessità dal punto di vista tecnico ma un grande impatto sociale quindi c'è una necessità di un coinvolgimento della città su tutti e due su tutti i due fronti questo è uno sforzo enorme uno sforzo che richiede anche tanta comunicazione ed è assolutamente vero è necessario su tutte le tematiche ambientali costruire una comunicazione e una comunicazione corretta e questa è una delle grandi difficoltà poi l'ulteriore sforzo che fra l'altro ci vede partecipare proprio in questi giorni perché a pochi metri da qui al macro a testaccio si sta svolgendo il primo workshop del progetto di quello che ci è stato finanziato abbiamo partecipato al bando Rockefeller alla fondazione Rockefeller sulle città resilienti siamo una delle 33 città che è stata diciamo vincitrice del bando sulle 100 città resilienti e quindi stiamo iniziando a lavorare con il supporto la fondazione Rockefeller lavora mettendo a disposizione degli enti locali e dei soggetti tutto un know-how e anche personale per poter iniziare a costruire quello che è il piano della resilienza e dell'adattamento agli shock sia climatici ma anche di altro tipo delle città anche in questo Roma ha mostrato purtroppo la propria fragilità basta ricordare l'alluvione del 31 gennaio e quindi noi abbiamo iniziato coinvolgendo in questo primo workshop NGO associazioni università e altri stakeholders abbiamo iniziato a ragionare per la costruzione di un piano di resilienza e di adattamento delle città di Roma quindi io credo che questi siano i primi segnali di un grande impegno che la città che la nuova amministrazione sta dando su tutte le tematiche ambientali anche perché alcune cose non c'è più tempo non possiamo più aspettare altro perché ci chiediamo crediamo giustamente molto stiamo richiedendo io vedo qui ci sono alcuni presidenti di municipio quindi l'amministrazione di Roma Capitale è fatta anche dai presidenti di municipio che siamo a noi tutti i giorni sono sul fronte perché affrontare dei cambiamenti in una città come Roma non è nemmeno banale non tutti sono pronti quindi un lavoro incessante sui territori e quindi ringrazio loro e tutta l'amministrazione che noi stiamo pressando e stressando perché dobbiamo portarci a livello delle altre capitali europee partendo da un dato di fatto oggettivo perché così non è e quindi questi sono gli impegni che stiamo portando avanti che abbiamo iniziato insomma in questo primo anno e porteremo avanti nei prossimi 4 anni grazie allora noi a questo punto chiamiamo anche visto che la mostra sarà donata alle periferie romane quindi all'assessorato e qui accanto a me c'è Luca Tanasio che rappresenta l'assessorato allo sviluppo delle periferie quanto è importante avere una mostra che rappresentano le migliori pratiche del territorio nelle periferie Beh innanzitutto porto i saluti per niente formali dell'assessore Masini che io rappresento dico veramente per niente formali mi è arrivato un whatsapp pochi secondi fa insomma quindi che posso mostrare che segue e ha delegato me in questa fattispecie con molto entusiasmo e con molto interesse gli sviluppi e noi abbiamo avuto questa idea insieme a Pierluigi di esportare questa mostra che abbiamo visto un po' di tempo fa al macro molto significativa in una zona della periferia romana proprio con l'intento di donarla alla gente metterla proprio in mezzo nella piazza diciamo al centro culturale Elsa Morante frequentatissimo e molto usato perché proprio la usassero la toccassero la sentissero loro e ne traessero ispirazione così come abbiamo fatto noi la delega che ci è stata affidata è quella dello sviluppo delle periferie e noi crediamo moltissimo che si crei sviluppo attraverso tutto ciò che ruota attorno alle tematiche dell'ambiente l'ambiente non è una questione solo etica è scontato ma è una questione di grandissima potenzialità di sviluppo Roma sapete tutti che è il comune con la maggiore estensione di territorio agroalimentare d'Europa questo elemento non può essere ignorato va utilizzato va sfruttato in maniera sana evidentemente noi vorrei citare molto brevemente due progetti su cui stiamo lavorando moltissimo negli ultimi tempi uno è questa inaugurazione che abbiamo fatto la scorsa settimana della mensa la prima mensa scolastica in un territorio metropolitano a chilometri zero veramente a chilometri zero anzi addirittura c'è la fattoria che produce il cibo che i bambini per il momento in maniera sperimentale mangeranno una volta al mese all'interno di un territorio che non supera il chilometro c'è una filiera che abbiamo diciamo costruito insieme che produce tutto dalla pasta fino ai dolci della merenda diciamo e una volta al mese questi bambini mangiano in maniera sana controllano quello che mangiano partecipano alla produzione perché una volta al mese vanno anche a vedere e a fare fattorie didattiche diciamo così non solo avranno in affidamento dei microorti che svilupperanno loro stessi e questo crea lavoro perché ci sono tantissime fattorie locali che altrimenti che faticano tantissimo a trovare visibilità e mercato che invece sono messi in una filiera che attraverso la garanzia dell'amministrazione può sviluppare grandi potenzialità l'ultima cosa che direi in un secondo è questa gara calore che il mio assessorato il nostro assessorato ha portato avanti con molta convinzione per cui da adesso in poi il bando sul riscaldamento dei 1800 edifici pubblici di Roma non si farà più come una volta a ribasso cioè se la giudicava chi appunto aveva la quota minore e puntava chiaramente a guadagnare di più sprecando più energia ma da adesso in poi le aziende che si aggiudicano il bando guadagneranno sull'efficienza energetica ecco questi sono due progetti su cui noi stiamo lavorando moltissimo e ringraziamo ancora una volta l'occasione che ci dà Earth Day Italia di rendere visibile questo sforzo e a questo punto io chiamo qui accanto a noi il direttore del centro culturale Elsa Morante Gabriella Paolino e il presidente del nono municipio Andrea Santoro ecco qua allora anche per loro è un centro culturale che ospita tante belle mostre e immagino sia contento di ricevere Cambiamo Clima Assolutamente sì buongiorno a tutti i centri culturali la rete dei centri culturali è gestita da Zedema Progetto Cultura con il coordinamento dei municipi e ovviamente dell'assessorato allo sviluppo delle periferie e i centri culturali dovrebbero essere una risposta al territorio per ospitare iniziative che toccano a 360 gradi le arti ma anche aspetti sociali di crescita di responsabilità civile quindi forte è l'impegno dei centri culturali nell'ospitare iniziative soprattutto con le scuole perché educare i bambini sin da piccoli su quello che è l'ambiente e il rispetto vuol dire degli uomini migliori nel futuro e quindi siamo particolarmente felici di ospitare questa mostra perché vuol dire che il centro culturale si arricchisce di un'ulteriore offerta culturale scusate il giro di parole che potremo subito proporre alle scuole insieme alla collaborazione con il municipio a partire con il nuovo anno scolastico e adesso invece magari la offriremo ai visitatori che verranno comunque a vedere le rassegne estive perché abbiamo anche un'arena e quindi è un centro come diceva anche Luca Attanasio molto frequentato per tutti i livelli di età e quindi potrebbe essere una buona occasione sia per la mostra per essere vista ma soprattutto anche una buona offerta per il territorio quindi grazie ancora per darci questa opportunità e un'altra sì prego e quindi il presidente del nono municipio Andrea Santoro che ci dice di questo municipio che riceve questa importante mostra è un municipio molto attivo sul territorio che ha un grande spazio al verde devo dire che è un municipio molto contento oggi di ricevere una mostra di questo tipo perché e quindi ovviamente ringrazio a nome si può dire di tutti i cittadini del municipio e dell'Italia per questa per questa donazione che proveremo a tenere un bel po' al centro del Samorante e sì è un municipio che 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 sta cercando anche se con se con fatica ma poi sono le cose più belle quelle che si fanno con fatica di cambiare in qualche modo anche la mentalità dei cittadini soprattutto di quelli più piccoli con la massima attenzione legata al tema del rispetto dell'ambiente e del rispetto della terra lo accennava l'assessore Marino prima stiamo cercando di cambiare qualche cosa in questa città oggettivamente non è semplice e devo dire che anche diciamo sul dibattito che c'è stato che c'è stato prima noi siamo un municipio che in qualche modo ha vissuto questa ad esempio questa vicenda del toto di scarica post Malagrotta e devo dire che quella vicenda in realtà ha stimolato molti cittadini anche a capire quelle che devono essere le buone pratiche ma non solo l'attenzione verso la terra l'attenzione verso il riuso e in quel periodo infatti utilizziamo diciamo questa occasione per presentare e presentarvi questo progetto abbiamo incontrato tantissime realtà agricole che sono presenti nel municipio perché quello è un municipio dove c'è una percentuale altissima di agro romano e ci sono decine e decine di aziende che lavorano per bene la terra e abbiamo proposto diciamo loro proprio per superare questa ansia che c'era con l'ipotesi della discarica mettiamoci in rete facciamoci conoscere facciamo conoscere queste realtà che spesso sono eccezionali che sono nazionali e che però i cittadini del territorio non conoscono è nato dopo un come si dice dopo un ampio dibattito questo progetto che si chiama dom e presentiamo in qualche modo oggi e poi lo presenteremo ufficialmente l'11 giugno al centro del Samorante che è il marchio di denominazione di origine municipale dove non è un qualche cosa in più ma è l'idea di fare rete con le aziende produttrici del territorio sta piacendo molto e secondo me lo spirito giusto dell'utilizzo corretto della terra deve andare in questa direzione proprio perché si diceva prima è importante soprattutto mettere in piedi una rivoluzione che se vogliamo è culturale e questa secondo me può essere una strada giusta e una giornata come questa è assolutamente una giornata giusta grazie per questo passaggio per questo passaggio così virtuale perché in realtà non potevamo portare qui i pannelli sono dei pannelli molto grandi io vi chiedo di apporre una firma perché qui c'è appunto la pergamena e quindi Attanasio Paolino e Santoro dovrebbero firmare questo passaggio ufficiale che sigla come dire la consegna da parte di Earth Day Italia della mostra Cambiamo Clima ecco qua ci sono tante penne a vostra disposizione e anche questa come dire è una formalità ma è sicuramente un sì fa cerimonia è per cerimonia per così far festa e l'impegno è preso è un bel impegno sì ora però noi vogliamo conoscere i protagonisti i protagonisti della mostra Cambiamo Clima che ci hanno raggiunto qui purtroppo sono solo due dei 23 perché erano 23 reportage fotografici sì è una buonissima rappresentanza e visto che qui al mio fianco c'è sicuramente un rappresentante di Baricamà lo riconosco perché so che è un gruppo parla di una storia che ci racconta diciamo il loro percorso di integrazione giusto ragazzi che provengono dal Mali che fanno prodotti eccolo qua lo vedo qui accanto a me lo yogurt che poi proverò grazie per aver invitarci a questo convegno siamo molto felici di portare di dare questa mostra alla comunità di Roma e oltre a questo dovremo fare capire alla gente che noi siamo noi emigrati che raccogliamo tutti questi verdure nelle campagne che siamo sempre sotto sfruttamento che stiamo cercando di capire stiamo cercando di trovare un modo che siamo ben trattati a queste campagne però è molto difficile di fare questo lavoro oltre a questo abbiamo cominciato a produrre yogurt yogurt che facciamo qui a Roma da 2011 abbiamo iniziato il progetto da 15 litri adesso siamo a 200 litri alla settimana che grazie a gruppi amici che ci aiutano di affrontare tutti questi che noi abbiamo molto difficoltà di parlare in italiano abbiamo capito tutto guarda il nostro sogno è sempre di trovare inserire più nostri amici per imparare in italiano che hanno molto difficoltà di parlare quindi mentre stanno andando in mercati e raccontare il progetto imparano a parlare molto bene in italiano vi ringraziamo molto allora consegnate quindi questo piccolo cadeau all'assessore all'ambiente e stella marino eccola qua addirittura voi li consegnate in bicicletta vero? sì sì in bicicletta facciamo consegna in bici tutta Roma grazie al progetto anche conosciamo tutto il quartiere da Roma perché prima conoscevamo solo come si dice alcune zone alcune zone termini dove andate più frequentemente in quale zone consegnate di più ovunque ora consegniamo ovunque tutta Roma diciamo Montemario San Lorenzo Testaccio anche piccole quantità? sì consegna minimo di ordine 10 euro facciamo anche consegna a domicilio complimenti vuoi aggiungere qualcosa? sei contento di lavorare per questo progetto? sì sì sono molto contento perché prima eravamo solo in due ma adesso siamo in sei quindi anche alla settimana facevamo 50 litri ma adesso siamo a 200 litri alla settimana speriamo che possa ancora aumentare speriamo bene speriamo bene complimenti Barikama sì prego vedete questo è la dimostrazione noi fotografi parliamo per immagini ci piace dire che siamo gli occhi dove portiamo delle immagini riportiamo indietro delle immagini dove non si può andare a vedere di persona ma ci sono delle volte in cui invece di essere occhi invece di far vedere le faccia è così bello sentire le voci e sono storie piccole storie positive di queste realtà ce ne sono ce ne sono tante probabilmente ce ne sono molte di più di quelle che immaginiamo e sono magari dietro l'angolo l'idea del DOM della denominazione di origine municipale del municipio è interessantissima perché va oltre il chilometro zero è il metro zero e ci sono queste storie a metri zero a volte anche a centimetri zero sono dietro casa noi siamo quelli che raccontano è una associazione non profit lo facciamo in maniera del tutto gratuita lo facciamo in tutto il mondo è una bella storia ne abbiamo raccontate 23 anzi sono 22 belle storie ci stanno però mi piace anche ricordare perché poi tra l'altro ah peraltro questa storia è stata raccontata da Alessandra Fratoni che è qui in sala oggi un'ottima fotografa brava Alessandra tra le 23 storie c'è una storia non positiva che però abbiamo raccontato che è paradigmatica però di come viene sventrato il nostro paese viene trattato male il nostro paese abbiamo raccontato io Bianca Ferraiolo che è qui con me è la storia dei guardiani della terra dei fuochi che è diventata poi uno dei simboli purtroppo di questa mostra la discarica Resit voi conoscete la terra dei fuochi Giuliano San Cipriano d'Aversa Casale dei Principe eccetera eccetera questi custodi da più di 16 mesi ormai da quando abbiamo fatto la storia se no passate 18 mesi 19 mesi non percepiscono lo stipendio stanno lì 24 ore su 24 a custodire queste enormi discariche dove abbiamo vomitato tutta l'immondizia di mezza Europa eppure sono lì dalla mattina alla sede sono sempre discariche i fuochi sono stati spenti ma le discariche restano respirano aria malsana eppure resistono lo fanno non credo solamente per spirito ambientalista per spirito di servizio lo fanno anche per una promessa di un lavoro perché manca il lavoro eppure resistono ed è la storia emblematica di un paese che nonostante tutto va avanti con storie positive ma anche con storie negative dove si rintraccia sempre quella resilienza quella briciola di resistenza umana che fa nonostante tutto andare avanti e cercare di rendere cose migliori poco alla volta grazie ancora invece un esempio positivo perché ci piace raccontare anche gli esempi positivi anzi siamo qui oggi per questo ci viene dall'agricoltura sostenibile con Zolle ecco qui le ragazze di Zolle sono 15 aziende tra Lazio e Toscana delle proprio piccolissime aziende che producono sono aziende familiari che producono tutto ciò che si può produrre nel Lazio quindi il Lazio è ricchissimo così come la città di Roma nel Lazio esiste una produzione che va dalla pasta quindi dai grani al latte formaggio e logicamente tutta la frutta carni e quant'altro noi raggruppiamo aziende che rispondono a una serie di criteri sia di qualità del lavoro impiegato appunto che di qualità del tipo di tecniche che si usano sul territorio e consegniamo ogni settimana a 1300 famiglie nella città di Roma i loro prodotti quindi famiglie che altrimenti dovrebbero girare per tante aziende agricole possono direttamente ricevere a casa una selezione di prodotti assolutamente di stagione e di territorio questo è consegna anche voi in bicicletta? sì noi abbiamo anche per queste cose che pesano un pochino di più sì probabilmente il sistema di cargo bike più grande di Europa quello che ci dicono abbiamo strutturato un sistema integrato di biciclette più furgone le biciclette purtroppo non sono italiane è una cosa che ci spiace perché ancora in Italia non c'è questa expertise nel fare bici da trasporto grandi sono bici danesi che possono portare fino a 180 kg per cui portano 7-8 zolle queste scatole qua e vengono consegnate in tutta Roma da baldi giovani contentissimi di farlo felicissimi di questa attività che si è creata e ad oggi ecco anche questo è un esempio di bello impegno perché comunque lavorano in questo sistema otto ragazzi cioè un indotto già solo sulla consegna sulla logistica è una logistica sensata di otto persone là dentro c'è perché siamo curiosi non possiamo vederlo qua dentro ci sono prodotti che arrivano da aziende dell'agronomano in realtà frutti di stagione si frutta e verdura di questo momento quindi da melanzane meloni fragole che consegnate al rappresentante dell'assessorato allo sviluppo delle periferie Luca Attanasio e tornerai in bicicletta in ufficio contento adesso questo peso voglio vedere in bicicletta lo porta a casa sì sto con lo scooter però insomma diciamo ecco 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 meglio no grazie grazie ci fa molto piacere peraltro io sono un iscritto a Zolle diciamo quindi e quindi va bene grazie mille allora grazie a voi tutti per essere stati qui oggi giornata mondiale dell'ambiente io sono veramente felice di aver trascorso questa bellissima mattinata in vostra compagnia sì come no posso lanciare un duplice invito come centro culturale Elsa Morant e anche municipio nono a parte vi aspetteremo tutti l'undice alle ore diciotto per l'inaugurazione della mostra e visto che sarà nostra intenzione insieme al municipio di far vedere la mostra il più possibile quindi in questo anno in cui la terremo e forse anche di più il coinvolgimento delle scuole sarebbe bello poter avere la collaborazione di avere delle testimonianze mentre si fa vedere la mostra ai bambini perché la voce e le immagini insieme sono molto più efficaci quindi vi lancio questo invito per poi costruire insieme delle visite guidate grazie ancora grazie ancora un saluto a Pierluigi Sassi Art Day Italia all'assessore all'ambiente per essere stata con noi e Stella Marino all'assessorato alle periferie Luca Tanasio al direttore del centro culturale Elsa Morante qui al mio fianco Gabriella Paolino al presidente del nono municipio Andrea Santoro a Zolle a Baricamà e io felicissima di essere stata con voi come vi dicevo all'inizio vi rilancio l'appuntamento all'undici al centro Elsa Morante e vi lascio con un video veramente molto bello io ci tengo è un video realizzato da Heart Day Italia nel quale ognuno si prende un impegno un piccolo impegno per l'ambiente ci sono protagonisti importanti ma c'è anche tanta gente comune testimonial di questo video perché ovviamente il cambiamento parte da ognuno di noi io non spreco l'acqua io ci tengo io sono qui per ascoltare un sogno un pomeriggio dedicato a pulire la spiaggia io ci tengo prometto di fare la raccolta differenziata sempre io ci tengo il mio impegno per la terra è rendere convenient a tutti dedicarsi alla sostenibilità sia per le imprese che per i cittadini io ci tengo io mi impegno a far rispettare la terra e a sporcarla sempre di meno io ci tengo io prometto di utilizzare la bicicletta sempre io ci tengo il mio impegno sarà quello di utilizzare ancora di più i mezzi pubblici anche per lavoro fallo anche tu io ci tengo da oggi mi impegno a comprare il più possibile le cose usate fallo anche tu io ci tengo il mio impegno per la terra andare a piedi e soprattutto di corsa io ci tengo alla raccolta differenziata io ci tengo da mamma mi impegno a dare cibo più sano ai miei bambini basta merendine io ci tengo fallo anche tu come noi usa il car sharing io ci tengo lancia il tuo impegno per la terra e condividilo sui nostri social io ci tengo e tu? se non ne avrai bisogno ma ci sarà a dare cibo a dare cibo a dare cibo a dare cibo